Inter Fan TV, cuori forti, nerazzurri, bentornati da Michele Borrelli a un nuovo appuntamento post-Champions con i nuovi mostri i nuovi mostri che arrivano di notte in questo martedì, martedì 13 febbraio che sfocerà nel 14 di febbraio prima e seconda giornata di questi ottavi Champions d'andata la testa di serie numero 1 e la testa di serie numero 2 della Champions hanno vinto il City e il Real Madrid un po' come previsto 3-1 al 92esimo la chiude il City con Foden mentre il Real Madrid 0-1 con tante assenze in casa dell'Ipsia che aveva anche segnato all'inizio un gol poi annullato per un fuorigioco un portiere che veniva disturbato da un giocatore in attacco e non da Sesco che in realtà poi la metteva dentro insomma alla fine segna Brahim Diaz e vince il Real Madrid 0-1 non c'è più il gol in trasferta che vale doppio, questo è vero ma comunque vincere fuori casa 1-3 addirittura il City è già un bel cominciare allora io oggi le ho provate tutte con auricolari, controauricolari, senza auricolari, telefono 1, telefono 2, telefono 3 vediamo come va non è perfetto come vorrei ma insomma finora si sente e si capisce speriamo bene, speriamo davvero bene, speriamo perché i nuovi mostri ci devono far sorridere ma soprattutto siamo a martedì ieri sera un piccolo dettaglio io avevo titolato nel Black & Blue Monday Evening l'avevo titolato è fuga vera è fuga vera e adesso è verissima verissima, lievissima altissima, perché l'Udinese dopo aver espugnato San Siro col Milan espugna pure l'Allian Stadium della Juventus 0-1 come con il Milan e quindi quest'anno l'Udinese di solito bestia abbastanza nera dell'Inter tante volte quest'anno ha vinto in casa del Milan e in casa della Juventus un caro saluto a tutti i friuli che ringraziamo di cuore perché adesso sì che si può ancora di più cantare la capolista se ne va la capolista se ne va la capolista se ne va e se ne va la capolista se ne va non lo sentite? Nelle case di tutti gli interisti del mondo questo coro con cui ci siamo svegliati nella mattina del martedì che risuonava nella notte di lunedì la capolista se ne va la capolista se ne va e se ne va la capolista se ne va 60 punti già fatti 60 punti con una partita in meno contro i 53 della Juventus i 52 del Milan e il Napoli campione d'Italia dove sta povero Napoli con Mazzarri che sta patendo un po' le pene dell'inferno con Osimène che torna pensiamo prima a fare i 65 punti per la Conference League dice Rodigian eh sì per dirla all'Allegri guardiamo la quinta no noi guardiamo lì in alto sempre più su guardiamo l'Atletico di Madrid perché è iniziata la Champions e è davvero bello seguire la Champions la svolta l'ha data Allegri Juve Empoli dalla gestione di quella partita è precipitato tutto a Torino dice Angelo e finalmente comincia a uscire la polvere da sotto il tappeto Renato si sente benissimo Michele buonasera Antonio l'Inter è una squadra che diventa a volte ingiocabile per le avversarie troppo forte Audi ok Domenico Simone Sgro si può dire che l'assenza di Rudiger per i Real è grave se in futuro ci incontrassi io dico avremmo fatto tre gol noi e però Rudiger torna a fine febbraio mentre Alaba e quindi ai quarti ci sarà passando in Lipsia mentre Alaba e Militao non è per niente detto che torneranno anzi quasi sicuramente no però col ritorno di Rudiger Nacho Rudiger c'è questa soluzione Ciameni insomma vedete che anche all'estero non è che si fa male uno sei mesi anzi due anzi tre e vanno sul mercato e si chiama Real Madrid voglio dire non è che non ha possibilità non è che non ha che non abbia possibilità ecco ecco iscrivono addirittura intanto daremi non ha ancora effettuato la visita medica speriamo che arrivi a luglio speriamo anche speriamo ragazzi dai su perché fate così siamo in onda su InterfanTV scrivici in chat Tremi ha già l'accordo Tremi ha già l'accordo le visite sono una formalità sta benissimo c'è sempre chissà perché c'è se tu dici vabbè ma è normale perché se tu scrivi su un social ci sono migliaia di persone vuoi che non ci sia uno che deve scrivere la cosa eh sì è vero c'è sempre uno è uno è la 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 terra è quadrata e l'Inter è bianco è azzurra non lo so c'è sempre c'è sempre qualcuno vabbè Gaetano ho seguito tutta la tua diretta studio con annesso brambati show complimenti per la pazienza Gaetano ciao Michele stasera faccio la notte mi terrai compagnia mitico i nuovi mostri vedi ti ho letto nel programma come l'Inter che programma già la capolista se ne va e poi programma già il futuro è qua e se ne va grazie per averci portato all'interno dello studio di diretta studio sabato scorso Giovanni subito dopo la partita con la Roma forza Inter tra l'altro domani sera ci sarò lì su Netflix venerdì Inter Salernitana dalle 9 alle 11 anche se la nostra diretta inizia alle 8 poi finisce alle 11 già venerdì sera quindi torno in tempo a casa per mezzanotte e venerdì sera a mezzanotte quando un giorno è ormai finito un nuovo giorno sta per cominciare ci sarà tutto il post partita con voi con le pagelle interattive con i commenti le interviste le prime pagine e tutto il resto mentre giovedì sera obiettivo Inter con i nostri ospiti domani parola ai tifosi di pomeriggio 90 minuti un po' compressa proprio perché domani sera poi sono di nuovo in onda non bisogna fermarsi non so se sono l'unico ma a me piacerebbe non solo vincere il campionato ma anche superare o raggiungere quota 100 punti mancano 15 partite tanto ma non tantissime si può fare ho capito ma l'importante è avere adesso una distanza di sicurezza e cercare di mantenerla l'obiettivo è vincere non fare più punti possibili perché le energie in più devono essere messe in Champions League c'è l'atletico che sta per arrivare ciao Michele Zelischi e tu daremi soluzioni di lusso a parametro zero questo vuol dire programmare speriamo non ci costi cessioni in lusso ci saremo davvero tra i top d'Europa Federico Danilo grande Michele ciao grazie Udinese ieri sera era bellissimo Montopoli dice Michele Legor domani sarò anche alle 14.30 su FC Inter 1908 canale Twitch e per la gente che canta Davide ciao Michele speriamo che il signore Allegri rimanga a vita al suo posto almeno ci fa divertire lunga vita Auri lunga vita a Massimiliano Massimiliano nasce scostumato diceva Troisi no perché se la mamma deve richiamare il figlio che va a giocare fin quando dice Massimiliano torna e quello chissà addostato è arrivato invece Ciro è una via di mezzo tra Massimiliano e Ugo Ugo nasce un po' represso il ragazzo perché troppo Ugo Ugo allora una via di mezzo Ciro lo chiamiamo e per dire Troisi lo chiamiamo Ciro alla fine ci arriva con tutta questa con questa questa via di mezzo tra Massimiliano Allegri lunga vita e Ugo Ugo allora grazie Udinese fondamentali sei punti nelle prossime due dice Angelo così potremo anche potremo anche andare ad una media di due punti o poco sotto per avere la quasi certezza dello scudo con Ugo e Milan a 2-5 partita sarebbe fatta comunque anche se io diciamo pur di battere un Atletico Madrid sarei disposto a questo punto a perdere qualche punto qualche punto una domanda dice Simone che è sempre polemico vediamo adesso che cosa si inventa con la rosa per il prossimo anno già pronta già pronta con la sola cessione di Dumfries va sostituito come facciamo a raggiungere il pareggio di bilancio al netto degli introiti europei dice Simone e come facciamo ma il pareggio di bilancio se tu segui Interfan TV lo sai non è che l'obiettivo di questa stagione 23-24 è un qualcosa di graduale da raggiungere e quindi non ci sono solo poi gli introiti dei diritti TV della Champions ma ci sono anche gli sponsor ci sono a cui tu tieni tantissimo ci sono i diritti TV della Serie A dove l'Inter può vincere il campionato e sono di più dell'anno scorso ci sono i ricavi da stadio che possono essere anche leggermente superiori all'anno scorso ci sono delle plusvalenze da fare ci sono tanti giocatori che l'Inter ha mica solo quelli di prima squadra anche giocatori giovani ha giocatori in prestito e le strade del mercato sono infinite poi anche i famosi interessi sul prestito diminuiranno matematicamente perché Zanga ha messo altri 76 milioni in questa stagione nell'Inter e quindi i finanziamenti soci con il tasso di interesse diminuiranno il peso nel passivo di bilancio che già erano scesi da 50 milioni a 40 adesso scenderanno da 40 a poco più di quelli del bond che sono 28 29 più o meno quindi si andrà leggermente sopra i 30 c'è ancora una cinquantina di milioni al 7 8% che sono 50 milioni sono 5 per 7 35 insomma 4 sì saremo tra i 30 e i 35 tra i 30 e i 35 milioni di interessi di interessi poi ci sono abbiamo visto l'anno scorso un 5 6 milioni di imposte e quindi arriviamo a meno 40 e bisogna scendere sotto il meno 40 tra costi e ricavi dell'anno scorso e si può fare insomma l'obiettivo sarebbe già buono andare sul meno di mezzare il meno 85 dell'anno scorso non sarebbe male nel prosieguo del percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio buonasera Allegri è stato felice della vittoria dell'Inter almeno non ha perso punti dalla Roma ma quest'anno si vince dice Pier Mattia eh sì ieri la sua faccia però era tutto un programma di Allegri quando è arrivato e adesso vedremo con i nuovi mostri anche c'è anche Allegri ovviamente non poteva mancare contro la serenità in vista dell'atletico chi faresti riposare almeno dal primo minuto Arna Sanchez titolari troppo rischiosa no Simone io farei un turnover ampio con Bissek De Vrij Bastoni lascerei solo Sommer Bastoni Barella Cialanoglu io Inzaghi fortunatamente io non sono Inzaghi fortunatamente per gli interisti Inzaghi non sono io e quindi credo che per lui ci sarà qualcuno in più qualcuno in più per me invece io cambierei sia i due esterni Carlos Augusto e Dumfries titolari con De Vrij con Bissek poi Sommer Bastoni Barella Cialanoglu per me i quattro titolari confermati di cui il portiere davanti Arnautovic Sanchez mentre credo che Inzaghi cambierà solo un attaccante un centrocampista secondo me lo cambia anche lui gli esterni ci sta a due perché uno è Dumfries che già da tempo doveva insomma prima o poi tornare De Vrij obbligato ecco l'altro dubbio rispetto ai miei sette cambi lui una sola punta scende a sei e forse anche in difesa non è detto insomma ci potrebbe essere comunque un Bissek rilanciato con De Vrij che abbiamo detto De Vrij e Dumfries non sono diciamo vero turn over e se vogliamo anche Carlos Augusto pre-champions ci sta vediamo vediamo anche gli allenamenti che cosa viene fuori da domani e dopo domani fra tesi che si sta per riaggregare al gruppo Sensi che non ha più la febbre insomma fuori solo quadrato di lungo corso e Acerbi che tornerà difficilmente nella Champions purtroppo mi dispiace un po' dai alla fine De Vrij merita anche di giocare l'importante che non succeda niente a De Vrij con la Salernitana così che possa giocare poi con l'Atletico Madrid e poi con Lecce si valuterà il ritorno di Acerbi con l'Atletico partiamo alla Pari i calcoli alla mano 36 punti e siamo campioni in Italia Antonio sì ma ne basteranno anche meno di 36 perché non è che la Juve il Milan poi le vincono tutte ma per quanto riguarda invece con l'Atletico io ho detto che da 50 a 50 oggi l'Inter arriva meglio dell'Atletico quindi dico anche 51 a 49 per l'Inter nonostante spesso non si è d'accordo con loro devo dare atto a Bargigia e Damascelli unici che dicono realmente come stanno le cose a Torino tra Allegri e Giuntoli gli altri fanno spallucce dice Angelo sì vabbè io allora Damascelli non lo conosco Paolo Bargigia sì e devo dire che però anche Bargigia dice che è giunto lì su Allegri è ermetico anche se lui diciamo è spesso in contatto quindi lo conosce eccetera ma in questo momento è ermetico quindi è più una sua visione più che diciamo un'analisi dei fatti che lui non può è sempre per gli allenatori che devono giocare in avanti quindi non gli piace Allegri Murigno di turno eccetera eccetera per quanto riguarda invece Allegri secondo me dobbiamo aspettare perché una cosa è il secondo posto sopra gli 85 punti con una Coppa Italia una cosa è il terzo posto con 80 punti scarsi e la sconfitta in Coppa Italia poi il rapporto con Elkan è importante per Allegri ma è vero che la dirigenza deve lavorare anche sul sul futuro sulla possibilità e ci sono sempre i soliti noti con Conte che tornerebbe a piedi Giuntoli che sarebbe più per allenatore di progetto alla motta ma oggi Allegri è ancora abbastanza saldamente in sella è ancora presto per 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 quindi lunga vita lunga vita Emanuele alcuni addetti ai lavori hanno addirittura chiesto scusa a Massimiliano per aver provato a considerare la Juve in piena corsa a Scudetto e agli addetti ai lavori adesso andremo ai nuovi mostri salve ma nei sondaggi tra quelli che vogliono che Allegri rimanga siamo sicuri che siamo tutti Juventini ho grossi dubbi in Zaghi subito santo subito nei sondaggi tra quelli che vogliono Allegri che rimanga siamo sicuri che siamo tutti Juventini che siano tutti Juventini no se non gioca con la Salleritana quando gioca Buchanan Mario Buchanan sarà titolare se lo guadagna la prossima stagione con la partenza probabile di Dumfries quindi non è una domanda Mario che non ci sta assolutamente non ci sta l'abbiamo già detto mille volte come con Bisse che sapete sono i temi che non mi appassionano per niente perché sono risposte scontate che ormai chi segue diciamo Interfan TV lo sa perché una volta che avete voi gli strumenti per capire queste dinamiche queste sono dinamiche che si capiscono in autogestione non ce ne vede da fare la domanda lo sapete anche voi ad oggi se non gioca con la Salernitana e no che non gioca perché gioca Dumfries se gioca Dumfries non gioca Buchanan poi se la partita è su un certo binario secondo me potrebbe anche non fare entrare il Lautaro il Turam di turno che non parte dall'inizio può entrare Buchanan può entrare Sensi i cambi se stai pareggiando è una cosa i cambi se stai pareggiando perdendo è una cosa i cambi se stai vincendo sono un'altra se stai vincendo anche bene un'altra ancora 60 su 69 punti l'anno scorso il Napoli veniva glorificato quest'anno l'Inter è normale che sta facendo questi numeri che giornali che ci sono in giro Michele Piermattia Renato alla luce del risultato sorprendente della Juventus l'importante è stare tranquilli continuare il percorso senza dormire sugli allori nonostante il vantaggio più largo in classifica e poi Daniele ed è un po' che non riesco a seguirla live un po' di domande se posso Daniele eh sì sì anche se è domani quella diciamo interagire classica con le telefonate oggi ci sono i nuovi mostri che adesso dobbiamo partire con i nuovi perché se no si fa tardi classeno Sensi che favorito per chi è favorito per far rifiatare Michi e non è detto nemmeno che sia Michiterian rifiati perché magari lui ha tutti i dati e dice che c'ha la Noglu magari può rifiatare lui e gioca Slani certo se dovesse rifiatare Michiterian è nettamente classen davanti a Sensi per anche per caratteristiche per fisicità perché se l'è guadagnato negli ultimi tempi ah come gioca l'Inter di Inzaghi dice Stefano di Inzaghi l'ho aggiunto io sentivo che Quadrado ha lavorato parzialmente in gruppo ma c'è una data per il suo recupero più o meno no 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 che parzialmente in gruppo sentivo dove no no non mi risulta assolutamente Quadrado se ne parla ad aprile la data per il suo recupero più o meno se ne parla per aprile e non so nemmeno se è più la seconda parte che la prima perché servono tre mesi minimo minimo tre mesi quindi fine dicembre fine marzo c'è la sosta poi ad aprile vediamo poi dovrà ritornare appunto poco alla volta c'è tutto un un iter spero fortemente che le notizie provenienti da Salerno siano vere c'è rombo e squadra offensiva e Liberani in effetti è più un rombista anche se io ho messo il 3-4-2 1 perché perché insomma se va a cambiare troppo però sai potrebbe pure cambiare con i suoi principi dall'inizio dice parto con tra l'altro Manolas ha detto dovremmo sudare sono tutte finali mette Manolas e il comandante Fazio hanno anche Boateng potrebbe fare Fazio però non è detto che ce la faccia recuperare ma la difesa Manolas Boateng potrebbe pure fare la difesa a 4 e fa il rombo speriamo veramente dice Angelo che siano offensivi così Liberani me lo ricordo non certo con certi catenaccioni con Parma e Lecce vediamo no che catenaccioni Liberani guarda che gli piace giocare gli piace giocare assolutamente questo vantaggio questo vantaggio ci permette di concentrarci un po' di più sulla Champions Mario assolutamente io mi sarei concentrato a prescindere sulla Champions 16 partite per 30 punti ed è fatta non credi 16 partite ma sono meno di 16 partite perché l'Inter è alla 24esima con una da recuperare quindi ne mancano per l'Inter 15 15 tu dici 30 punti a 90 quindi la media di due punti a partita come si diceva prima allora le dite no 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 ma falle falle le domande Daniele non ti preoccupare no no anzi oggi ho più tempo perché non devo correre dopo da nessuna parte Daniele Daniele fai adesso le domande tra un nuovo mostro e l'altro cercherò di rispondere Max voglio battere l'altradico Madrid e incontrare il Real Madrid per quelli della mia generazione ci vuole una rivincita Max gutta da ora ti capisco le quattro eliminazioni degli anni 80 ero piccolo me le ricordo anche quelle degli anni recenti e però poi ci sono anche dei bei ricordi con Real Madrid con Roberto Baggio con la Champions Coppa dei Campioni del 64 le ultime due volte che abbiamo incontrato la Salernitana il venerdì abbiamo vinto 5 a 0 speriamo nella Cabala non sarebbe male Pavard è diventato un leader di questa squadra non benissimo con la Roma devo dire sempre sotto la nord a festeggiare anche molto disponibile con noi tifosi per foto su quello si calato nella realtà inter al 100% mi sono sbagliato era Frattesi che ha lavorato parzialmente in gruppo non quadrato per lui solo terapie Michele ci mancherebbe Frattesi si Frattesi potrebbe essere già convocato per la Salernitana Bausch 70 condizioni di Frattesi a Cerbi appena detto però forse ti sei collegato adesso Frattesi abbiamo detto può essere anche convocato per la Salernitana domani o dopodomani ritorna in gruppo con l'Atletico sicuro mentre a Cerbi è sempre più no che sì con l'Atletico come dicevo prima De Vrij lunga vita De Vrij con il con la Salernitana De Vrij e dovrebbe poi se tutto filaliscia essere confermato con l'Atletico Madrid post-Atletico Madrid senza fretta ci sarà di nuovo molto probabilmente già a Cerbi allora dobbiamo dire due cose sul titolo perché nel titolo prima della capolista se ne va è la programmazione su Zelischi che aveva fatto queste visite mediche dopo Milan-Napoli sotto in silenzio senza che si sapesse mentre Taremi si è sparsa la notizia i tifosi del porto sono insorti ieri si erano pure perso 3 a 2 con Taremi che è entrato dopo tornava dalla Coppa d'Asia e allora non è stato più opportuno fargli fare un viaggio anche perché lui deve giocare con il porto e quindi diciamo che non era proprio il caso anche perché ormai si era saputo e una volta che si è saputo che le visite mediche erano oggi ci sarebbe stata molto diversamente da Zelischi tutto sarebbe diventato molto mediatico e allora secondo me in modo molto opportuno hanno rinviato a tempi migliori tanto uno che gioca la Coppa d'Asia la Champions League c'è Porto Arsenal il campionato portoghese diciamo le visite mediche sono una formalità non è che il reduce da un infortunio grave o reduce da chissà che cosa quindi farà le visite mediche quando non si sarà sparsa la voce e poi ovviamente potrà andare a firmare il contratto con l'Inter Inter che come diceva appunto prima credo Simone è già programmato praticamente la nuova stagione ecco me lo dice Daniele adesso così rispondo a lui saluto da Boston a Vincenzo è vero che le viste per Taremi sono state rimandate Renato appena detto appena detto ci sono anche parecchi tra cui Renato che ogni tanto quando hanno da dire qualcosa la dicono a prescindere dal contenuto mi dice Renato poi si è vero non ho ascoltato ma poi ascolterò è bello anche perché mi tenete in considerazione per condividere i vostri pensieri però è anche bello insomma se commentiamo quello di cui parliamo ciao Michele De Vrai mi preoccupa da un punto di vista fisico tre partiti una settimana sono tante ecco Nicolas Nicolas hai chiesto scusa Inzaghi Nicolas Nicolas ma come ti preoccupa De Vrai tre partite ma dove le ha fatte queste tre partite ma dove le ha fatte ha fatto mezz'ora con la Roma dove le ha fatte queste tre partite deve giocare con la Salernitana venerdì e quasi sicuramente con l'Atletico Madrid poi c'è Acerbi e si possono alternare tranquillamente non deve fare nessuna tre partite nella settimana a parte che quando quando si è fatto male l'ultima volta aveva giocato consecutivamente di più di tre partite Zelisca ha già firmato il precontratto interista e sì si ha fatto le visite mediche non stiamo parlando del precontratto da febbraio è il contratto il precontratto è a gennaio da febbraio è il contratto Ederson errore con i piedi allora quindi Zelisca abbiamo detto ah no c'era la domanda di Daniele ecco qua poi Arge i nuovi mostri ah no Arge era questo si è detto solo del rinvio dell'assemblea non della disponibilità dei direttanti a votare l'abolizia del diritto d'intesa passaggio decisivo con allenatori e calciatori gravina avrebbe quasi il 70% della disponibilità dei direttanti a votare l'abolizione del diritto d'intesa non sarebbe non sarebbe male perché se no la riforma non si farà non si farà Ederson errore con i piedi sul gol del Copenhagen buono a sapersi per il futuro sì il gol del Copenhagen che aveva pareggiato a un certo punto del primo tempo nasce da un errore del portiere del ragazzi però se non vi fermate i nuovi mostri non li facciamo allora domanda di Daniele oltre Dumfries altre cessioni importanti si valuta per un difensore o si punta sempre su Acerbi De Vrij per il prossimo anno stadio novità su Nink terrà la società PS Inter stupenda sogno champions allora velocemente tutte queste domande di cui abbiamo sempre parlato in tutti i giorni ma lui dice Daniele non ci ha seguito ultimamente allora sulle altre cessioni importanti dipende dalle offerte non è che l'Inter decide di vendere e arrivano le offerte dipende sempre dalle offerte e siccome ci sono 7-8 per la precisione 13 club ma quelli più pericolosi sono 6-7-8 che possono andare a offrire prima al giocatore un ingaggio che fa che possa far cambiare idea sulla permanenza all'Inter il giocatore in quel momento l'Inter che ha un contratto chiede una determinata cifra ad oggi questa trattativa per altri non c'è un interesse già focalizzato accertato su altri non c'è quindi poi però può sempre succedere può sempre succedere il Real Madrid non prende Mbappé decide a luglio dice Lautaro il mio obiettivo va a offrire a Lautaro 20 milioni il giocatore dice sì il Real Madrid va dall'Inter l'Inter dice no Lautaro ma dai resta Lautaro dice no mi dispiace voglio andare allora a quel punto l'Inter dice datemi 100 milioni 150 milioni 200 milioni e si fa la trattativa e vale per tutti ma ad oggi non è per niente scontato e quindi possiamo dire che con su De Vrij così rispondo anche su De Vrij e a Cerbi hanno il contratto anche per il prossimo anno quindi l'Inter se vende Dunfrid si è già portato avanti con Bucana Quadrado è da valutare ma quasi sicuramente Quadrado Classen e Sanchez andranno a fine contratto come sensi senza essere rinnovati ma anche quello non è detto anche quello non è detto magari da oggi alla fine dell'anno Sanchez fa 10 gol Classen fa 10 gol e diventa titolarissimo Quadrado ad aprile torna e fa vincere all'Inter i quarti la semifinale la finale di Champions ci sono sempre delle cose che oggi non sono sicure al 100% quindi il piano diciamo più lo scenario più sicuro è quello che Taremi in attacco e con Arnautovic che ha ancora il contratto anche lui da valutare Valentin Carboni che può prendere un altro posto un'altra casella centrocampo Zelischi nella casella di Classen e Essenzi quindi 6 centrocampisti 5 punte sull'esterno se va Darmian con Buchanan Dumfries può essere ceduto e in difesa ne mancherebbe uno se invece Darmian viene considerato difensore come a oggi e più anche se sta giocando titolare esterno destro nei programmi invece più da considerarsi da difensore l'Inter potrebbe andare a cercare un altro esterno destro oltre Dumfries e poi rimane aperta solo la questione secondo portiere riscatto di Audero potrebbe l'Inter andare su un altro portiere poi ci sono Carlos Augusto e Di Marco a sinistra Turam Lautaro e Arnautic Valentin Carboni e Taremi davanti Barella Frattesi Cialano Gloslani Zelischi Mkhitaryan a centrocampo Cervi Cervi De Vrai Centrali Pavard Bissek Bastoni e Darbian gli altri quattro difensori insomma l'Inter è praticamente fatta poi se arrivano offerte a seconda dell'offerta si valuta si sostituisce e si migliora il bilancio questa è la diciamo la 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 base di come si ragiona stadio novità lo vedremo tra pochissimo con i nuovi mostri cosa ha detto il sindaco oggi le novità sono come ha aggiornato ieri proprio Alessandro Antonello si andrà a proseguire l'Inter sul Rozzano dove manca manca ecco vi devo volevo dire anche ieri no forse poi alla fine ve l'ho già detto però volevo ridirvi su questo sullo stadio allora eccolo qua poi ripeto nei nuovi mostri ci sarà anche quello che dice Sala oggi ma quello che dice l'Inter con il supporter dei nostri advisor stiamo continuando a lavorare sull'area di Rozzano dopo lo studio la fine dello studio di fattibilità e l'acquisizione dell'area presenteremo all'amministrazione il nostro progetto l'Inter ha investito una cifra già importante sul progetto a Rozzano per l'opzione sull'area e per i suoi consulenti Goldman Sachs Populus Legend We Partner fino al 30 aprile il club nero azzurro ha un diritto di esclusiva per verificare la fattibilità della costruzione dello stadio di altre attività spazi commerciali verde tutto il resto il nodo da sciogliere è quello della viabilità la risposta degli esperti sul discorso viabilità dovrebbe arrivare entro un mese ma al momento non sono state evidenziate particolari criticità e quindi poi si andrà a procedere con l'acquisizione dell'area poi tutte le autorizzazioni entro il primo semestre del 2025 in quel momento partono i tre anni che sono previsti per la costruzione poi si va sempre un po' a sforare quindi in teoria dal 28-29 sia l'Inter che il Milan possono andare a Rozzano e a Santorato vedremo oggi cosa ha risposto Sala tra poco ai nuovi mostri ma il programma è questo e così rispondo anche all'ultima domanda di Daniele su Suning terrà la società qui c'è la scadenza 20 maggio dove l'intenzione è appunto di l'intenzione quella di rifinanziare il prestito di Optree con un altro soggetto e ci sono diciamo ancora pochi giorni poche settimane per concludere diciamo un mese un mesetto ancora per concludere questa operazione in quel momento poi con la maggior stabilità della proprietà si potrà andare anche a risolvere queste scadenze con la prelazione che potrebbe essere anche allungata oltre il 30 aprile del terreno ad Assago e procedere sul discorso sul discorso stadio quindi ho risposto un po' a tutto ma faceva parte anche del titolo perché la programmazione abbiamo detto e quindi quest'estate diciamo che il mercato poi è vero che ci sono i grandi club che se tu fai una semifinale di Champions e giocatori che si mettono in luce sicuramente ci saranno corteggiamenti quindi comunque il mercato non può mai essere chiuso prima di cominciare però non si sa mai magari non arrivano queste grandi offerte l'Inter deve anche mettere a posto i contratti di Lautaro e Barella che però scadano nel 2026 e poi queste piccole scossette di assestamento dopo che il grosso è stato fatto l'anno scorso e con Buchanan ci si è portati avanti avanti molto bene tra dieci anni secondo te giocheremo a San Siro oppure no? questo sindaco ci crede ancora tu che ne pensi Steph? no io credo di no credo di no e questa cosa di San Siro dentro o fuori si saprà quando adesso verranno convocati due club già a febbraio un po' troppo nero nel rosso della nuova Ferrari non gradisco Michele vai avanti con i nuovi mostri dice Morris che vuole sapere i nuovi mostri e lo so però anche l'interazione c'è sempre presi Biucana Nezilischi e Taremi se prendevamo Giallo stavamo a posto vendendo Dumfries è vero hai ragione così abbiamo ancora qualcosa da fare per il mercato Federico domanda tecnica se ad esempio Zerischi si infortunia pesantemente sarebbe a rischio la prossima stagione cosa farebbe l'Inter avrebbe clausole? no una volta che hai firmato poi io non ho letto il contratto magari c'è la clausola davvero ma di solito quando uno firma firma può succedere anche che un giocatore si possa far male tra l'altro in Champions non può giocare lui col Barcellona non è in lista all'occorrenza anche Pavard potrebbe giocare centrale in realtà non è quello il ruolo che lui predilige no lui centrale intende centrale a 4 nella Francia perché non vuole fare il terzino ma nell'Inter che gioca a 3 i centrali sono 3 che poi nell'Inter 2 vanno sempre in avanti accompagnare l'azione ma questo fa parte del DNA di Pavard ecco non è esterno a tutta fascia ma lo può all'occorrenza anche fare poi centrale dei 3 se Acerbi e De Vrai non ci sono può giocare anche Pavard ma ad oggi ci sono Acerbi e De Vrai Salernitana Tretico Lecce se Acerbi non recupera aspetto le scuse di Inzaghi per lo scudetto 2022 Salernitana Tretico Lecce se Acerbi non recupera ho capito ma Salernitana è il 16 l'Atletico è il 20 il Lecce è il 25 perché Acerbi non deve recuperare per quanto riguarda poi le scuse di Inzaghi per lo scudetto 2022 non c'è da chiedere da chiedere scusa perché chi fa calcio può vincere può perdere non è che Inzaghi ha perso è l'Inter che ha perso Inzaghi ha permesso all'Inter di lottare per lo scudetto grazie anche alla sua scelta e trasmissione di idee a quell'Inter che aveva perso Lukaku e Hakimi la società gli aveva chiesto il quarto posto per dirla un po' all'Allegri siamo forti e super competitivi già per l'anno 21 questa è la verità Lillo buonasera Giovanni Occhionero Gianluca le vicende di Zaghi Acerbi si risolveranno con un'ammenda credo che un'eventuale squalifica sia esagerato visti i precedenti sì ma Acerbi dipende da quello che dirà su Inzaghi è quasi impossibile la squalifica ma voglio dire Acerbi in ogni caso con la salerità è infortunato quindi nella pratica è più una questione diciamo di filosofica di contenuti sul perché il per come è giusto reagire ne ho parlato ieri è sempre giusto non reagire anche quando si è dalla parte della ragione come in quel caso ci hanno messi come te sul lato invece in Zaghi è stata più un'ingenuità di bastoni che cosa devi dire ha chiamato abbiamo sentito lascia perdere però non si può fare non si può sentirsi e poi bisogna però provarlo per squalificare Michele i bookmakers ci hanno messi come terza forza in Champions dopo City Real che ne pensi Pier Mattia Bruno sì più che i bookmakers non sono i bookmakers ma sono eccola qua le previsioni Opta le previsioni Opta che danno la squadra di Guardiola il City al 32% addirittura di vittoria e poi il Real Madrid al 15 poi c'è l'Inter con l'11 per l'11,6 per quanto riguarda la finale il 50% il City 20 28 il Real Madrid 22,9 l'Inter 21,2 il Bayern quindi Inter davanti al Bayern poi c'è l'Arsenal poi c'è il Paris Saint-Germain e poi c'è il Barcellona praticamente le prime 7 che dicevo anch'io poi c'è il Dortmund e l'Atletico Madrid io ho messo l'Atletico Madrid prima del Dortmund ma l'Atletico Madrid deve battere prima l'Inter per questo ci può stare anche qui l'unica cosa che cambia rispetto a quello che dicevo io ieri il Bayern dietro l'Inter perché poi Arsenal che oggi è davanti ha superato Paris Saint-Germain e Barcellona ci sta e quindi è in linea con la mia previsione di ieri cambia solo Inter e Bayern Monaco qua sono quasi appaiate con l'Inter leggermente davanti per me invece il Bayern Monaco resta davanti poi ci sono l'Arsen a Paris Saint-Germain e Barcellona quindi questo è anche bello perché vuol dire comunque che anche i dati perché i dati opta sono anche un po' quello che è la stagione siccome il Bayern Monaco è anche secondo l'Inter sta vincendo con tanti record e quindi ci sta che venga fuori questo tipo di previsione importante fare 9 punti nelle prossime 3 partite contro squadre medio piccole ma insomma se le ridano Lecce-Atalanta l'Atalanta non è proprio medio piccola l'Atalanta è al quarto posto Salernitano è l'ultima in classifica il Lecce è diciamo la migliore delle otto che lottano per la salvezza al momento lo United con Redcliffe comincia a strutturarsi a livello dirigenziale Ashford del Newcastle in Polcom e DS prevedo molti cambi di allenatori nelle big continuità dell'Inter farà la differenza è vero che la continuità continuità paga soprattutto nell'approccio nell'approccio della stagione sono punti pure quelli in questo scenario sono contento di immaginare Fabian a farsi le ossa per un altro anno arrivederci nel 2025-26 spero dice Daniele anche a me piacerebbe però deve essere onesti la casella di Fabian è più quella di Frattesi e Barella che quella di Mkhitaryan e Zelischi Zelischi poi ci sarà sicuro anche Mkhitaryan è un due anni di rinnovo e quindi Fabian anche a me piace tu dici può essere anche un settimo centrocampista perché con le liste il giovane è cresciuto nel vivaio però insomma siamo in onda dico ora qui su Interfan TV Fabian sta crescendo molto con Tiago Motta ma anche per le sue qualità quindi anche in fase difensiva in fase di possesso ad averne di Fabian ad averne Quale percentuale che la società si cede entro l'anno Alessio? Entro l'anno non è la scadenza la scadenza è il 20 maggio quindi vabbè tu dici è sempre questo anno è giustamente però secondo me ad oggi rimane la percentuale molto più alta diciamo un 90% per il rifinanziamento il resto il 10% è netta minoranza come percentuale certo se Zanga avesse i soldi sarebbe un presidente perfetto appassionebbe far lavorare i dirigenti senza pressioni e un profilo internazionale se avessi i soldi ragazzi ancora siamo a sto punto i soldi li deve avere il club sapete chi sono i presidenti più ricchi in Italia quello del Como quello del Bologna e fino a poco fa anche quello del Monza deve essere ricco il club i ricavi del club non ce la farò mai su questo saluto Alessio saluto Gert anche oggi non mi è arrivata nessuna notifica comunque vedere Allegri schiumare rabbia contro l'era non apprezzo provate a vedere notifiche da YouTube e poi notifiche Interfan TV tutte Daniele grazie mille direttore grazie a te Rodigian idea carina sull'aria di Roxanne dei Police potrei cantare Roxanne lo stadio dedicato a un nuovo stadio uno stadio solo per l'Inter sarebbe un sogno non capisco la scelta di ridurre il numero dei posti rispetto alla capienza di San Siro Mario no 70.000 adesso 70 75 dici sono 5.000 hanno fatto comunque i progetti con due anelli con due anelli diciamo era massimo a 70 per arrivare allo step successivo bisogna pensare a un qualcosa simil terzanello ma 70 è stata ritenuta la capienza giusta anche Bissec secondo me può fare il centrale Roberto sì ma come emergenza diciamo è più portato da andare in avanti l'allenatore di Cavalli Livornesi è in grave difficoltà vedo che qualche amico giornalaio tipo Zazza lo stanno abbandonando scendendo dal carro il ma non credo il Bayern ha una fase difensiva da mani nei capelli Nicolas ma dipende anche se al completo no il nonno dice Michele ti amo addirittura e allora come diceva Verdone io ti amo tu mi ami lo vedi che è reciproco e allora è reciproco anche se lì non andava a finire bene la storia d'amore del film di Verdone Alessandro prima pagina di tutto sport di stamattina rabbia del giornale contro la Juve cosa fai così uccidi il campionato antinterismo puro mostri e adesso sì dai possiamo allora ultimi quattro messaggi e poi mostri giovedì il Milan con il Ren con 7000 tifosi ospiti venerdì Inter Salernitana martedì Inter atletico il terreno di San Siro torna sotto stress anche per questo servono due stadi Angelo anche se adesso a fine gennaio lo hanno completamente rizzollato Adarabioio può essere un obiettivo per la difesa del prossimo anno Luca allora ad oggi mi risulta più l'esterno destro quindi Darmian è considerato difensore se poi viene fuori un diciamo un'occasione per un difensore Darmian abbiamo visto è che assist con la Roma che può fare ancora tranquillamente l'esterno destro la ristrutturazione di San Siro è davvero così impensabile scusate ma sono un inquaribile romantico buonasera Gianpaolo Cardinali Inter e Milan verranno convocate dal comune e quindi risponderà no perché mi viene da ridere perché ho visto che è precisamente mezzanotte siamo al minuto ormai 44 e 44 e quindi in onore dello scontro diretto 44 gatti in fila per sei col resto di due si unirono con fatti in fila per sei col resto di due col resto di due col resto di due vi ricordate però quando io ho detto io ecco mi ricordo quando dicevo stare tutti qua adesso ci saranno le trasferte di Firenze scontro diretto e Roma dicevo giratala anche un po' perché bisogna vedere anche un po' il bicchiere mezzo pieno perché lì poteva succedere è vero che la Juve gli andasse bene con le Empoli gli è andata pure male l'espulsione quindi la poteva pure vincere la partita poi lo scontro diretto uno può pure pensare che possa finire in pareggio l'Inter può pure pareggiare a Roma e la Juve battere l'Udinese e io dicevo però pensate pure una cosa diversa uno scenario diverso la Fiorentina ti attacca e tu negli spazi la batti vinci lo scontro diretto perché sei più forte e a Roma con la Roma di De Rossi che è un po' più spocchiosa e spavalda e la colpisci tu vinci con Fiorentina Juve e Roma non è impossibile e gli è dato una mazzata ecco anche io che ero vedevo volevo vedere anche questa possibilità come scenario non avevo messo nello scenario Juve-Empoli 1-1 e Juve-Udinese 0-1 e allora da meno 2 quel pareggio della Juve con l'Empoli da meno 2 l'Inter vince a Firenze più 1 vince con la Juve più 4 vince con la Roma più 7 la Juve perde a Udine più 7 con una partita in meno e quindi lo scenario il calcio e così può andare anche oltre ogni aspettativa ma ma questo ci fa capire anche che non è assolutamente finita per i nuovi mostri l'articolo di Zazio sul Corriere Juve poca spesa e tanta rese allegri ha migliorato i giocatori ma in questi anni l'unica cosa che ha migliorato è il conto in banca va bene dai 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 partiamo allora partiamo e stasera sono venute fuori anche alcune cosette che non erano previste per esempio questa con la partita vinta dal la squadra di Milinkovic Savic di Milinkovic Savic contro l'Al Nasr di Cristiano Ronaldo e l'Al 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 sempre tra le due e andiamo a vedere allora basta vedere Milinkovic dove gioca e lo sappiamo l'Al 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 sono anche primi in classifica e allora che cosa è successo? che Ronaldo come al solito quando veniva invitato perché Messi vinceva il pallone d'oro il FIFA Volpe lui non si presentava oppure era arrabbiato non condivideva faceva scrivere il post alla sorella eccetera eccetera non ha perso il vizio perché adesso cosa è successo? cosa è successo? vedete che cosa combina qua addirittura Milinkovic-Savic premiato miglior giocatore alla fine della partita le premiazioni dell'Ali-Lal e Cristiano Ronaldo si arrabbia un gestaccio qua poi alla fine prende la medaglia se la toglie addirittura via 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 la dà ai tifosi comunque la butta via perché lui il secondo posto non lo accetta mai e non cambierà mai come disse Gattuso scrisse Gattuso chi nasce quadrato non può morire non può morire tondo non può morire tondo Cristiano Ronaldo inaugura i nuovi mostri della settimana butta la medaglia non è d'accordo con le premiazioni non riconosce mai qualcosa di diverso da lui migliore di tutti migliore del mondo migliore del mondo poi mi ha fatto anche molto sorridere questa da da Sport Mediaset dice Inzaghi Inzaghi ha dettato la parola d'ordine e qual è la parola d'ordine dopo questo questa vittoria di Roma non amministrare non amministrare sono due parole la parola d'ordine non amministrare le parole non amministrare sono due e questo è un po' per scaldare i motori la nostra forza sta nella programmazione i nuovi due arrivi vanno letti in questa chiave un attaccante e un centrocampista che possano dare una mano a Miki iper sfruttato forza inter sempre Anton Chekov hai ragione quindi dopo Cristiano Ronaldo e Sport Mediaset arriviamo a Sky quella che vi era piaciuta tanto l'ho vista anch'io qui e la prendo da questa pagina Facebook sentite un po' allora sentite un po' io prima dicevo un po' tra virgolette che forse dovremmo anche chiederle scusa per aver cercato in tante settimane di estorcerle la parola studetto lotta con l'Inter mentre con tutta probabilità lei conosceva conosceva questa storia però la domanda è ma allegri buona e qui il mio carissimo carissimo e mi piace tantissimo come conduttore ma no ma no caro Fabio Tavelli no 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 dobbiamo chiedere scusa ad Allegri che arriva lì magari per metterlo un po' più a suo agio perché sapeva la faccia l'aveva vista allora dice io però ti voglio un po' questa dovete anche capire che è una tattica giornalistica cioè quando uno è arrabbiato o uno che deve intervistare si chiuderà riccio non ti dirà niente ma tu invece vuoi intervistarlo vuoi fargli delle domande serie allora che cosa si fa si fa prima cadere la difesa dell'intervistato in questo caso con un elogio lo si mette proprio a porta vuota e dopo lui magari abbassa le difese e poi chiedergli delle cose però qua io prima dicevo un po' tra virgolette che forse dovremmo anche chiederle scusa per aver cercato in tante settimane di estorcerle la parola studetto lotta lotta con l'inter scusa lei conosceva conosceva la storia però la domanda ma Allegri buonasera abbiamo abbiamo Bremer intanto mi esce Adani qui che giustamente non è d'accordo dobbiamo chiederle scusa ma inzaghi il primo anno chi è che ha chiesto scusa chi 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 ha chiesto scusa perché lui era stato bravo a mettere l'inter nelle condizioni di essere addirittura la favorita quella che giocava meglio quella che aveva più punti eccetera eccetera e questa è mostruosa è mostruosa dobbiamo chiederle scusa a Allegri dopo aver perso con l'Udinese una partitaccia dobbiamo chiedere scusa chiediamo scusa se l'abbiamo accostata all'inter degli invincibili imbattibili o come dice il mio amico Marcello Chirico degli iperuranici l'iperuranica inter abbiamo sentito anche questo anche questo e poi c'è il disperato appello di Beppe Sala sindaco di Milano oggi intervistato dal Corriere della Sera e così ritorniamo all'argomento stadio in questa lunga storia ci sono due fasi la prima quando le squadre vengono da me e dicono di volere uno stadio nuovo mi mostrano mille progetti di uno stadio nuovo mi dicono che l'unica possibilità perché lì c'è posto è farlo nell'area di San Siro e dunque abbattere San Siro per fare un nuovo impianto questa fase è andata avanti fino a che a un certo punto e qui c'è stato il cambio di rotta delle squadre hanno visto che San Siro veniva vincolato e di fatti ormai prendo atto che un vincolo c'è e rimarrà e che con il referendum e l'opposizione di tanti cittadini era difficile farlo da lì cominciano ad andare fuori Milano perché io insisto per San Siro non voglio fare i conti in tasca alle squadre ma fare uno stadio nuovo serio importante costa almeno un miliardo e due dico loro perché non considerate San Siro che ha presenza e storicità visto che l'abbiamo in ginocchio ormai in ginocchio Marco dice che è imbarazzante visto che l'abbiamo al libro paga per 100 milioni dice San Siro oggi vale 100 milioni con un diritto di superficie lo posso dare per 90 anni vorrebbe dire un milione all'anno chi offre di meno un milione all'anno dice cosa vi costa per cifre quindi sostanzialmente diverse quando si è riaperto il dibattito sulla ristrutturazione di San Siro la mia casella postale è stata invasa da mail di gente che vorrebbe salvare San Siro detto ciò è evidente che se non si possono fare i lavori mentre si gioca hanno ragione le squadre che non possono stare tre anni senza stadio ma se si può giocare durante i lavori il mio invito è rifletteteci ripensateci tornate qui tornate indietro non è semplice oggi fare uno stadio in un territorio molto urbanizzato ci sono opposizioni ambientaliste difficoltà per la viabilità è legittimo che le squadre possano cercare la possibilità di trovare un altro stadio anche perché si patrimonializza da parte mia e dove si patrimonializzano da parte mia è doveroso difenderlo anche perché se loro vanno via cosa faccio con San Siro rimango col cerino in mano dove col cerino in mano l'ho aggiunto io dovrò trovare una soluzione e metterlo in vendita sapendo che le squadre hanno garantito di restare fino al 30 giugno 2030 in realtà c'è la possibilità di uscita due anni prima infatti sia il Mila San Donato che l'Inter Rozzano parlano di 2028 2030 che è apparentemente un lunghissimo percorso ma viste le complessità amministrative lo è fino a un certo punto Corriere della Sera intervista di oggi di Sala un milione un milione all'anno 90 anni e che ve costa in confronto al miliardo e due certo poi ci sarebbe da ristrutturarlo e lì si parla già di 300 milioni che poi diventano 350 ma non ho calcolato le maestranze non ho calcolato gli aumenti arriviamo facile facile a 500 intanto c'è Guardiola vediamo Guardiola che dice che ha affrontato la squadra più forte di tutti i tempi il Copenaghen quando vinci la Coppa dei Campioni dice acquisisci consapevolezza bravi in tutto concesso pochissimo abbiamo giocato nel tempo giusto ma io la cosa che non capisco Guardiola che si lamenta delle troppe partite anche oggi fa due cambi nel finale è una roba pazzesca sta cosa è vero che anche Ancelotti ha fatto due cambi ma almeno Ancelotti ha tanti infortuni ma Guardiola che fa due che tra l'altro uno l'ha fatto per infortunio perché è uscito al ventesimo Grilish che tra l'altro quest'anno sta giocando sta giocando poco intanto come al solito si aprono 700 800 pubblicità allora dicevo Alland Grilish che è uscito al ventunesimo poi Bernardo Silva è uscito è entrato Mateus Nunez al settantottesimo due cambi uno praticamente cioè incredibile veramente incredibile quanto vorrei eliminare il City ma non lo so vediamo pensiamo all'altre di Comadrid un passo alla volta un passo alla volta un passo alla volta non ci posso credere che parlino del gol dell'Inter come fuorigioco sei una fonte di ispirazione per i tifosi dell'Inter continuare con il grande lavoro forza Inter Floreng Mirta sei una fonte di ispirazione per i tifosi dell'Inter è un complimento troppo 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 bello troppo alto diciamo ti ringrazio è bello se sei riferito a me se magari stavi riferendo a qualcun altro leggevo poco fa quanto detto da Damascelli sul sito di Radio Radio Angelo perché mi è andato Damascelli tutto si può dire tranne che ce l'abbia con la Juve eppure va nel merito con notizie circostanziate ieri a Sky sono andati oltre e però Damascelli quest'anno perché aveva detto una cosa non mi ricordo nel senso che aveva fatto una polemica sai che non me la ricordo mi ricordo che c'era lui che aveva lanciato un qualcosa ah sì sì sul giornale a Natale sull'Inter la situazione economica dell'Inter una roba ridicola con titolo ridicolo quindi mi dispiace ma a me quando uno fa quelle cose lì ma già non era la prima volta già da tanto ero entrato nella categoria di inattendizia credibilità quando c'è il vincolo scappa dice Rodigian sarà ricordato per aver fatto scappare due squadre gloriose milanesi Lorenzo orgoglio italiano fenomeno Milano amministrato personaggi ah sì ho sentito anch'io è vero Monguzzi non gliel'ho messo ho sentito un'intervista radiosportiva ero in macchina ma da morire dalle risate da morire poi ho capito una cosa di Monguzzi in questa intervista di radiosportiva famosa opposizione al battimento lui dei verdi allora si è fatto scoprire così candidamente dice perché sapete che Inter e Milan non sono due proprietà normali sono due fondi speculativi sono due fondi speculativi io l'ho sempre inserito nei nuovi mostri perché perché fondo speculativo non è vero senza anche un presidente non è un fondo speculativo ma al di là di questo si è scapito perché salutando dice ah ma no no io seguo anche il calcio sono juventino e allora dillo prima Monguzzi che sei juventino e dillo due fondi speculativi ma pensa ai fondi tuoi pensa pensa alla Juventus pensa incredibile incredibile Guardiola è capace di guardare negli occhi Soralella e di complimentarsi per il portamento da top model si ha ragione Rodigen Michele buonanotte orario anomalo chiedi ausilio di prendere il toro Gian Giannotti per il prossimo anno eh ma ieri ieri ha fatto un gol anche se Giannetti più che Giannotti Giannetti Lautaro Giannetti ed è caduta anche la risposta del nostro toro Lautaro Martinez alla mia domanda alla presentazione del toro Pasquale aveva detto che anche l'arbitro era stato cambiato chi aveva detto che anche l'arbitro era stato cambiato Guardiola salutiamo Pasquale intanto Pasquale hai fatto rinviare le visite mediche a Di Taremi hai fatto rinviare mannaggia mannaggia un canale di Juventino continuamente riporta cose false e ingiuriose sull'Inter dice Nicolaus oltre a segnalarlo che posso fare ma Nicolaus che puoi fare se hai la voglia e la pazienza rispondigli per le rime se no ignora lì che è la cosa migliore per quanto riguarda invece no stavamo dicendo di Giannetti ti ha la famosa domanda di Lautaro Martínez perché Lautaro se ti chiami Martínez di cognome rispose il Toro di Baglia Blanca perché di Lautaro ce ne sono tanti di Lautaro di Martínez ce ne sono tanti di Lautaro ci sono io e adesso ce ne sono due e quindi dobbiamo chiedere in effetti Pasquale dobbiamo chiedere ad ausilio di prendere Lautaro Giannetti così per il postacerbi vediamo perché è anche giovane Giannetti mi sembra abbastanza giovane ancora classe no allora no mi è uscito un Giannetti per un altro vedi che Lautaro è importante Lautaro Giannetti classe 93 e nemmeno lui è giovane 30 anni 5 anni in meno di Acerbi e allora se Acerbi lunga vita da Acerbi non lo so se fa in tempo Lautaro Giannetti a venire all'Inter perché lui ha vissuto tutta la carriera al Velez grandissima carriera tra l'altro dal 2011 insomma 130 presenze c'è qualcosa che non va in queste statistiche se ha fatto solo 130 presenze in 12 anni ma vabbè comunque Palmares un campionato argentino nel 2013 una supercoppa sicuramente è entrato nella storia ieri nella piccola storia del campionato italiano 23-24 come gli ha detto l'allenatore dell'Udinese Cioffi sei il più forte difensore del mondo Lautaro Giannetti ah su Damascelli su Damascelli dice Pasquale allora su Damascelli aveva detto anche che l'arbitro era stato cambiato ah la famosa polemica adesso ho capito la polemica collaia per il fatto che era stato cambiato l'arbitro dell'Inter che invece era stato cambiato per motivi Inter-Verona per motivi personali e molto triste sì quella quella diciamo quella illazione illazione Lorenzo adesso nomina un equilibrio sul filo della querela Nicolas ma sì ma oltre che la querela c'è stato anche di più per certi personaggi se andate a vedere il loro curriculum allora c'è gente che ha vissuto esperienze particolari e quindi non gliene importa più non gliene importa più niente anzi vogliono attrarre a tutti i costi l'attenzione voi non gliela date l'attenzione non gliela date lasciate perdere Damascelli aveva detto che l'Inter aveva fatto cambiare l'arbitro che invece aveva avuto un lutto esatto Michele sì l'avevamo adesso proprio ricostruito allora però andiamo avanti nei nuovi mostri perché ce ne sono tanti allora abbiamo detto Cristiano Ronaldo Sport Mediaset con questo la parola d'ordine non come che era non 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 amministrare la parola non amministra tutta una parola non amministrare Allegri la scusa le scuse ad Allegri perché siamo siamo stati noi a metterti in lotto per lo scudetto Sala che continua a chiedere alle società di tornate a casa tornate a casa allora ma tornate a casa oggi invece voglio fare una piccola pubblicità piccola pubblicità sui nuovi mostri perché c'è prima quello che dice Sacchi ma non è mostruoso non è mostruoso e quindi diamo ad Arrigo quello che di Arrigo perché dice nel calcio quando credi di aver vinto succede che spesso vai in crisi e perdi ha ragione ma l'Inter è una squadra di alto livello e di notevole esperienze dunque non credo che commetta l'errore di sentirsi già campione d'Italia ha di nuovo ragione è d'accordo che il vantaggio garantisce tranquillità non si può mai stare tranquilli quando il destino dipende da un pallone che rotola certo avere sette punti in più è un buon margine ma non si deve pensare a gestire piuttosto questo è il momento di spingere ancora di più sull'acceleratore per dare la sgommata decisiva come succede tra due pugili sul ring esattamente perché questa è una sua vecchia metafora dopo che hai piazzato un pugno a bersaglio e magari sei riuscito a mandare l'avversario al tappeto bisogna insistere allo stesso modo quando una squadra segna a mio avviso deve proseguire ad attaccare per cercare il colpo del K.O vabbè lì abbiamo detto che ci può essere anche una strategia tattica però in questo caso è vero quando pesa e pensi di aver vinto è là rischi rischi per il secondo posto è lotta a Juve Milan e l'Inter osserverà questo spinger dall'alto e no l'Inter dovrà dare l'anima per arrivare il prima possibile al traguardo e soltanto allora potrà concedersi un po' di rilassamento anche l'Inter ha impegni europei la Champions è durissima la doppia sfida contro l'atletico costringerà i nerazzurri a mettere in campo energie supplementari il vantaggio lo ripeto ancora c'è ed è importante ma bisogna proteggerlo con l'atteggiamento mentale giusto guai a chi si sente arrivato e qua è onesto Sacchi è onesto è sincero e dice la verità a differenza di qualcun altro che invece non ce la fa non ce la fa e ovviamente ci riferiamo al direttore del Corriere dello Sport che dice al 67esimo hanno inquadrato un tifoso della Juventus che con le mani giunte e lo sguardo rivolto al cielo lui si è rivisto nel tifoso della Juventus che con le mani giunte e lo sguardo rivolto al cielo in Juventus sudinese stava pregando tutti i santi possibili scrive Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport sull'omonimo appunto quotidiano la preghiera dello Juventino non è andata a buon fine infatti è finita 0-1 quest'anno funzionano meglio i santi terreni dell'Inter che adesso ha sette punti di vantaggio una partita in meno e tre quarti di seconda stella sul petto proprio si vede l'uomo che soffre che cusce poco alla volta lo scudetto sulla maglia dell'Inter tre quarti lui che aveva detto che il Napoli l'avrebbe vinto a mani basse l'Inter quindi va in fuga con la Juve nuovamente battuta il Milan dietro di un punto l'Inter può tranquillamente ripetere la stagione del Napoli di Spalletti che un anno fa aveva 15 punti di vantaggio sui bianconeri e 18 su Inter e Milan al di là del calo della remata metafora Fabio Capelliana che di solito si registra tra metà febbraio e maggio è impensabile che i nerazzurri possano crollare tieee da metà agosto viaggiano a 2,6 di media un'andatura che può valere addirittura i 100 punti soglia superata una volta dalla Juve di Conte dieci anni fa come Rosica come Rosica e lo vedremo anche da tutte queste prime pagine e ci resta solo la Roma adesso ci prova lui De Rossi e sempre un'altra e sempre adesso le vedremo le vedremo come ci arrivano e come le ho salvate però ancora un attimo di pubblicità su chi su questo interessante ritratto di Taremi visto che abbiamo parlato di Taremi e di Zelischi fatto alla Gazzetta dello Sport dall'ex tecnico dell'Iran Ivankovic che dice fidatevi Medi è l'attaccante smart perfetto per Inzaghi quando sento parlare di Taremi la prima cosa che mi viene in mente è la sua intelligenza fuori dal comune Medi è un grande professionista partito dalle leghe minori e arrivato fino alla Champions League personalmente non conosco molti calciatori in grado di adattarsi a campionati moduli stili di gioco diversi come fa lui per un tecnico come Inzaghi che punta alla compattezza della squadra diventerà immediatamente un tassello fondamentale gli chiedono però a 32 anni si misurerà per la prima volta in un campionato di alto livello il salto di qualità risponde l'ex City dell'Iran non lo spaventerà anzi sarà il contrario Medi ha lasciato l'Asia a 27 anni sicuro che il Rio Ave gli avrebbe permesso di attirare su di sé le attenzioni delle bighe europee e così è stato dopo una stagione da top player con Seisau l'ha voluto al centro del suo porto adesso il passaggio all'Inter rappresenta uno step importante ma meritato e dovrà fare però i conti con la pressione gli dicono di una squadra di un campionato come l'Inter la Serie A con la Tula davanti per lui certi fattori sono un bene in Iran è considerato come una celebrità e non ha mai tradito le aspettative per quanto riguarda le gerarchie di Inzaghi sono sicuro che Taremi ha già messo in conto che non sarà facile farsi largo ma meglio così se sta lasciando il porto significa che è in cerca di nuovi stimoli e l'Inter è in grado di offrirglieli vedrete si adatterà presto e poi ancora giunge è un attaccante veloce bravo con i piedi determinante in aria di rigore abile a non dare punti di riferimento agli avversari negli ultimi anni ha giocato largo a sinistra da centravanti mentre nel mio Persepolis addirittura da seconda punta e anche adesso ho fatto la seconda punta con Azmun nell'Iran oltre alla rapidità ha anche un'ottima visione di gioco quando meno te l'aspetti si inventa l'imbucata vincente per i compagni anche quest'anno in Champions League Taremi farebbe comodo a qualsiasi allenatore a chi lo paragonerebbe è difficile trovare un giocatore simile proprio per le doti da playmaker considerando lo spirito di sacrificio il fiuto del gol e l'attitudine a prestare i difensori avversari ripenso alle movenze di Ciro Immobile di qualche anno fa io un po' più geco che Immobile nel senso che Immobile non è che aveva l'imbucata o l'assist alla Taremi con chi lo vedrebbe meglio con Lautaro con Turam forse renderebbe al top al fianco di Marcus dice quando giocheranno insieme per i difensori avversari sarà un inferno uno si allarga e parte in velocità l'altro attacca l'aria in attesa di un pallone da buttare in rete certo anche Lautaro è un fuoriclasse quando giochi con certi campioni trovare l'intesa non è complicato e quindi questo è anche un piccolo ritratto di chi lo conosce bene appunto di di Medi Taremi prossimo attaccante dell'Inter ogni partita che da Rubentus non fa risultato c'è sempre il giocatore da utilizzare come agnello sacrificale Milik Lovic Alexandro ma mai una parola contro il Cavall no però adesso Gert tra Rubentus Cavallari stai esagerando Michele sono Gianluca non dimentichiamo che l'anno prossimo alla fine c'è anche il Mondiale per Club a livello di Rosa dobbiamo tenerne conto c'è da vedere come fare i contratti in scadenza vabbè ma quello lo deve stabilire la FIFA Vaciago in preghiera chiede la pace tra chiese allegri non si dà pace il suo è un appello commovente per il bene dell'amata Juve e intanto da un taglio imbarazzante imprima la notizia su Taremi e adesso arriveremo alle prime pagine dopo i nuovi mostri ci divertiamo chiedi a Luca chiede a Pasquale il pronostico tra Paris Saint Germain e Real Sociedad secondo me il pronostico è aperto per me no per me Paris Saint Germain è nettamente favorito Zazzo ha dovuto riscrivere più volte l'articolo perché rovinava il foglio con le lacrime questa è bella questa figura se l'Inter vincesse lo scudetto la Champions o entrambe cosa scriverà l'amato Zazza interista aspettiamo e vediamo Michele che chiede a Pasquale di Giovanni di ieri sera Damascelli aveva detto anche questo abbiamo detto conta poco ma per te secondo il Bila noi gobbi Michele e sai secondo me la Juventus per il fatto di non fare le coppe ancora davanti vediamo vediamo il Milan se riesce a battere Ren e gli ottavi a marzo di Europa League per un eventuale infortunio dopo la firma del contratto c'è eventualmente l'assicurazione come con Ericsson che era una cosa diversa sarebbe bene non dare ascolto ai vari personaggi squali di come alcune vabbè ma non nominiamoli neanche ragazzi non li nominate neanche fate di pubblicità gente che cerca proprio quello no non c'è problema Antonio sono state rinviate le visite mediche l'ho detto all'inizio il perché perché comunque era una situazione che mediaticamente non era stata prevista cioè tutti che aspettavano il giocatore per le visite mediche quindi si faranno quando non ci saranno i riflettori come è stato fatto per Zedischi Ambrogioto se vincesse ma abbiamo ancora dubbi eh sì il campionato è ancora da vincere caro Ambrogioto nella realtà poi ci sono quelli che gufano che dicono di tutto vabbè ma intanto dai andiamo a vedere andiamoci a fare due risate ancora perché i nuovi mostri sono tanti dai andiamo più sui nuovi mostri eh allora vediamo un po' qui avevo salvato ecco qua nell'editoriale del collega di Sky Sport Luca Marchetti per TMV Radio dice ho visto una Juve poco brillante e poco lucida in preda al nervosismo dopo il gol di Giannetti ora però Allegri non può finire sul banco degli imputati sentiamo come mai perché perché fino a qualche settimana fa dicevamo che stava compiendo un miracolo ho capito lo dicevi tu che stava compiando un miracolo forse noi giornalisti abbiamo spinto per un duello che in realtà era difficilissimo quindi la pensa come mi dico Fabio Tavelli che dice dobbiamo chiedere scusa nel processo di crescita di una squadra ci possono stare dei passi falsi e quindi non possiamo mettere Allegri sul banco degli imputati perché stava facendo un miracolo abbiamo detto noi e quindi abbiamo spinto per un duello che in realtà era difficilissimo e quindi come sempre vince chi inciampa meno l'Inter ormai ha acquisito maturità dal lavoro di anni con Inzaghi anche il Milan ora sta facendo bene ma è stato penalizzato dagli infortuni adesso insidia anche la seconda posizione nelle mie classifiche ad inizio campionato avevo messo Inter e Napoli davanti con Juve e Mila leggermente dietro e quindi non possiamo mettere Allegri sul banco degli imputati perché? perché avevamo detto che sta facendo un miracolo ma che miracolo sta facendo ma che miracolo che gioca un calcio veramente una roba veramente inguardabile inguardabile io invece la Juventus dico e l'ho detto che per me può lottare per lo scudetto e poteva anche lottare per lo scudetto perché? perché ci sono le annate se tu segni 2-1 col Monza al novantesimo 1-0 col Verona al novantesimo inizi non hai le coppe inizi a crederci poi però ti deve andare anche un po' tutto bene con l'Empoli non gli è più andata tutto bene e poi lo scontro diretto un po' hanno l'hanno risentito lo scontro diretto l'hanno risentito Allegri parlavamo di Allegri che non si può criticare sia ma non sia mai che è successo ad Allegri ha avuto di nuovo ci è ricascato com'era la canzone di la canzone di di Achille Lauro ci sono cascato Achille Lauro ci sono cascato di nuovo ecco qua vediamo ci sono cascato di nuovo chi è che c'è cascato di nuovo ragazzi Massimiliano Allegri alla fine della partita una furia è lui che dice che i giocatori sono stati bravi e l'arbitro è stato bravo come sempre ma questo davanti alle telecamere si vedeva però la faccia ieri trasfigurata all'inizio dell'intervista e tutti che hanno chiesto scusa se ti abbiamo messo in lotta per lo scudetto pietà per avere al termine della gara 10.000 euro di multa negli spogliatoi rivolto una critica irrispettosa al direttore di gara e quindi e quindi Allegri ci sono cascato di nuovo perché è andato a un po' come i tempi di Nedved e Paratici che si andava lì a protestare a dire di tutto di più ma sì ma sì andiamo allora 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 devo dire che il buon Marco Bucciantini ci aveva fatto emozionare con queste sue metafore la settimana scorsa l'inter di Inzaghi che dobbiamo elogiare perché alla fine lui non lo fa allora lo facciamo noi e stavolta però che cosa mi dice è un capolavoro riuscire a fare mercato vendendo solo Nana e prendere 3-4 giocatori ma dai ma come solo Nana ma come solo Nana ne sono partiti 12 come solo Nana solo Nana ma metti almeno Brozovic almeno Brozovic una ventina di milioni il monte l'ingaggio che aveva solo Nana è partito l'Inter ha preso 3-4 giocatori solo Nana è partito ma come solo Nana ma come solo Nana come solo Nana vabbè mostro piccolino mostro piccolino mentre e chi è ancora dalla parte del direttore del Corriere dello Sport un altro che veramente non si capisce e anche lui quando si parla di Inzaghi non ce la fa e allora su Radio Radio Sandro Sabatini dice l'Inter è già dentro un ciclo che è iniziato con Conte con Conte con grandi investimenti dura ormai da 5 anni uno scudetto 4 Supercoppe a parte che sono 3 2 Coppe Italia una finale di Champions Lukaku è il simbolo di questa Inter sia nel bene che nel male parliamoci chiaro lui aveva detto che era tutto un caso o meglio era frutto anche del caso ma il titolo di tutto sport sul suo articolo era l'Inter frutto del caso parliamoci chiaro Turam non avrebbe giocato se fosse arrivato Lukaku invece erano stati tutti e due presi e Inzaghi l'anno scorso alternava Lukaku con Dzeko tutti prendevano Beto Baloghan Morata ma Beto Baloghan e Morata sono stati non presi è stato preso Arnautovic non è che erano al posto di Turam e invece c'è Turam dice Sandro Sabatini che è un signor giocatore parametri zero se tu li rivendi è qualcosa di anomalo basti pensare a Onana rivenduto a 50 milioni è qualcosa di anomalo che anomalo cioè se tu devi migliorare il passivo di bilancio prendi un parametro zero ti arriva l'offerta a 55 milioni l'anno dopo cosa c'è di anomalo sarebbe anomalo tenerlo il contrario ma per uno che dice che Zang utilizza l'Inter come bancomat diciamo che le idee non sono proprio evidentemente così così chiare ci tiene entrare nei nuovi mostri e allora glielo mettiamo così come tutto sport che ci tiene non ho capito questa prima pagina di E poi andremo a quella di oggi che ci suggerisce Angelo andremo neanche San Gennaro faceva tutti i miracoli che da anni fa allegri alla Juve il miracolo di essere la squadra che spende di più non vince non valorizza nessun giocatore è proprio un miracolo dice Angelo potresti fare una puntata intera il mostro di Foggia mamma mia ma non era di Firenze il tifoso social interista adesso è anche colpevole di voler travisare fatti oggettivi adesso lasciamo perdere la politica però no allora io la prima pagina partiamo da ieri tutto sport brava Juve così uccidi il campionato cosa avranno voluto dire con questo brava Juve cioè ormai sono così surreali e grotteschi che si capiscono solo loro uno dice compro tutto sport compriamo tutto sport leggo e dico la Juve ha perso brava Juve così uccidi il campionato che vuol dire boh altro che riscatto scudetto flop e fischi con Luminese prestazione sconcertante scelte discutibili Alexandro che regala il gol a Giannetti Chiesa diventa un caso un punto in tre partite col Milan a meno un'ora rischio anche il secondo posto Allegri dobbiamo tornare a fare punti per la Champions poi clamoroso Conte riapre al Napoli Alland e Vinicius è ora di Champions guerra tra serie FGC la palla passa a gravina il Toro ci riprova con Tudor e Inter già nel futuro oggi sbarca Taremi che poi abbiamo visto non è sbarcato ma brava Juve così uccide il campionato cos'è? autoironia cos'è? brava Juve così uccide il campionato chi capisce questo titolo vince un premio brava Juve così uccidi il campionato boh boh perché uno dice l'obiettivo non è uccidere il campionato no? è tenerlo aperto allora perché è brava? e se uno lo vede dal punto di vista juventino non è brava lo stesso perché il campionato diventa più difficile boh dall'altra parte dall'altra parte invece vedete c'è chi non ce l'ha fatto letto in tono di rimprovero dice Lucius brava Juve il rimprovero brava Juve boh vuol dire che erano convinti di raggiungerci e superarci è perso l'Udinese ah ah Ambrogio e sì venite a prenderci fatto la famosa prima pagina ma anche il Corriere dello Sport ieri non l'aveva presa bene via libera vedete l'ossessione però via libera cioè la Juve perde e loro hanno l'Inter via libera cioè è l'ossessione via libera no adesso si tolgono pure gli avversari cioè non è che perché no è via libera la Juve perde un altro Lautaro spinge l'Inter verso lo scudetto come per dire no vedete questi pure con gli altri Lautaro l'argentino Giannetti stesso nome di Martinez condanna Allegri Inzaghi vede la stella e ha più 7 sui bianconeri con una gara in meno ma vedete come inizia l'articolo il direttore del Corriere dello Sport al 67esimo hanno inquadrato un tifoso ah questo l'avevo poi già visto prima le mani giunte proprio vedete la 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 disperazione giustamente come diceva l'amico che nello scrivere riempiva di lacrime questa 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 produzione produzione emozione emozione inter nel futuro ecco taremi torna osi napoli niente più alibi il ballerino per una notte ormai ne regala uno al giorno non ho letto l'editoriale ma già il titolo mamma mi scappa marotta con riferimento ad inizio del pezzo al presidente in cina e fa capire tutto eh no ma mi stai anticipando tutte le prime pagine queste sono quelle di ieri via libera poi arriveremo facciamo prima i nuovi mostri e poi arriviamo alla rassegna e il gran finale calma 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 come direbbe l'amico di Livorno guardie ladri paraocchi ieri gliel'hanno detto devi fare con i paraocchi perché ci siamo fatti ci siamo cascati senza paraocchi ci siamo fatti influenzare da quest'aria di scudetto e poi c'è la gazzetta dello sport che oggi lanciava la nostra rubrica lo sapevano che il martedì è il giorno dei nuovi mostri e allora in prima pagina arrivano i mostri Vinicius e Alland Alland ci ha provato con una sforbiciata alta Vinicius con un esterno destro bello palo arrivano i mostri e invece i nuovi mostri i nuovi mostri l'Inter vede lo scudetto e Cairo che dice a Inter Milan Juve e Roma volevano fare la superleghina ma che superleghina 18 squadre due squadre in meno serve un po' di logica ci sono troppe partite no per lui volevano fare la superleghina e ovviamente la gazzetta Cairo editore riporta la battuta in prima pagina avessi detto il battutone sa chi era nell'aria ma non finisce qui Milan tutto sulla coppa però deve sbloccarsi Leao Leao Allegri pensiamo al quarto posto cade con l'udinese e rimane a meno 7 Juve a terra clamoroso K.O. in casa l'Inter vede lo scudetto questa era la gazzetta ormai di di ieri pensiamo al quarto posto allora chi è la quinta il Bologna il Bologna a 39 ma ha il recupero con la Fiorentina se vince va a 42 la Juve a quanti punti 53 11 punti dal Bologna in effetti considerando che la partita col Bologna all'andata poteva essere 2 in effetti si deve preoccupare del Bologna giustamente è giusto è giusto è giusto allora poi c'è stato questo posto su Instagram dell'Inter che ha suscitato insomma è successo di tutto not in my house e mi riferisco ovviamente all'uscita bassa di Sommer su Romelu su Romelu not in my house ha commentato l'Inter non a casa mia e qua sono iniziati i commenti a partire da Turam sai bene quello che stai facendo admin e poi non so ci sono tutti i mi piace chi ha messo mi piace not in my house Andrea Ranocchia il presidente Steven Zhang che ha messo il like a questo posto Ivan Ramiro Cordoba lo zio Bergomi Gaia Lugariello Raffaele Di Gennaro Robin Gossens Ian Sommer Benjamin Pavall l'interista Lautaro Martinez Turam ma Caccialanocchi insomma tutti i giocatori ma anche il presidente dell'Inter insomma scatenati not in my house certo che Lukaku veramente mostruoso l'assist involontario ad Acerbi il mancato tre a tre i fischi dell'andata il papà che gli consiglia di andare in Arabia figlio mio non ti meritano vai in Arabia a prendere i soldi e dammene una parte Romelu 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 che fine hai fatto che fine che brutta fine potevi lottare per tutto hai voluto andare nel niente mostruoso Romelu Romelu come direbbe Spalletti piccolo uomo non andare via capita capita chi è causa del suo mal pianga se stesso attenzione perché c'è anche un divertentissimo riferimento in un editoriale ieri dell'amico e collega Gianluca Rossi a Roma la consacrazione quest'Inter è uno squadrone potenza e controllo che però dopo aver detto tutto giusto alla fine mi dice però da un certo punto di vista peccato solo che manchino ancora 15 partite e 45 punti al traguardo che poi per l'Inter sono 16 partite e 48 punti no allora sono 14 partite siamo alla 24esima ne mancano 14 per l'Inter 15 non 15 per l'Inter 16 la matematica non è un'opinione ne mancano per l'Inter 15 6 prima della sosta 9 da Inter Empoli di Pasqua in poi allora 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 non è sempre ospite dei nostri nuovi ospiti del martedì che tra l'altro martedì prossimo non ci saranno quindi sfruttate adesso questa puntata lunga dei nuovi mostri perché martedì prossimo c'è Inter Atletico Madrid quindi i nuovi mostri tornano alla fine di febbraio perché perché ce ne sono ancora un bel po' per esempio per esempio per esempio Cristiano Giuntoli a Sky pochi minuti prima di Juve Udinese Quagliarella ho grandi ricordi di lui lo conosco molto bene ed è stato un grande calciatore come è stata vissuta questa settimana abbiamo lavorato come tutte le settimane molto bene poi i risultati sono frutto di tanti episodi noi abbiamo le idee molto chiare sui nostri obiettivi siamo sereni affrontiamo questa partita che è molto difficile l'obiettivo è sempre quello il quarto posto il quarto posto ma sei secondo a meno 4 stai entrando in campo con l'Udinese l'obiettivo è il quarto posto ma allora metti la next gen metti vogliamo fare bene e vincere tutte le partite ma come vuoi arrivare quarto e vuoi vincere tutte le partite non ci siamo mai nascosti dai nostri obiettivi non ci sono mai nascosti dietro al dito si nascondono come disse giustamente Ausilio e dice che non si sono mai nascosti cioè ma veramente però è un affronto all'intelligenza ma giustamente trovano poi chi gli chiede scusate se vi abbiamo messo in lotta per lo scudetto abbiamo osato così tanto scusate l'obiettivo è sempre quello il quarto posto vogliamo fare bene e vincere tutte le partite non ci siamo mai nascosti dai nostri obiettivi ci sono tante partite stasera avremo una gara difficile contro un udinese che non ha i punti che si merita e no sarà il Real Madrid dell'udinese il contratto di Allegri siamo felicissimi di lavorare con lui ha dimostrato in passato di essere un grandissimo allenatore attenzione questa è una frase shock ha dimostrato in passato di essere un grandissimo allenatore stanno facendo cose straordinarie abbiamo la volontà di proseguire con lui a fine anno avremo l'occasione di parlarne ed eventualmente programmare il futuro la Juve punto al prossimo scudetto ci sono da mettere a posto un po' di cose vediamo strada facendo quale sarà il nostro obiettivo ma come ha detto prima che l'obiettivo è il quarto posto e adesso vediamo strada facendo però dice perché al prossimo scudetto noi dobbiamo pensare al presente che è quello che ci darà certezze per il futuro a fine stagione vedremo quali saranno i nostri obiettivi ma prima di tutto dobbiamo pensare all'udinese quindi a fine stagione vedranno gli obiettivi adesso l'obiettivo è il quarto posto su Samaric se faremo le coppe se faremo le coppe allora qua ho giunto lì sa qualcosa che noi non sappiamo e sta per scoppiare un casino così grande da far retrocedere la Juventus di nuovo oppure oppure ci prende in giro se faremo le coppe non la Champions se faremo le coppe io faccio sempre riferimento alla quinta ma lui guarda l'ottava l'ottava guarda se faremo le coppe quindi se non arriva nemmeno in conference cambia saremo molto contenti e probabilmente aumenteremo il numero dei calciatori quest'anno abbiamo deciso di avere una rosa ristretta sicuramente prenderemo dei giocatori di qualità ma non possiamo fare nessun altro progetto che non sia pensare a stasera se non possono andare oltre stasera e soprattutto non sa se farà le coppe l'anno prossimo secondo me Giuntoli non ce la racconta tutta vuoi vedere che Elkan vende Stellantis Juventus e rimangono in mezzo a una strada è perché se no le coppe come fa a dire che non fanno le coppe ma Giuntoli Giuntoli loro non si nascondono non ci siamo mai nascosti non si sono mai nascosti non si sono pazzesco che ci dobbiamo sentire poi mi dispiace un po' però vabbè lui è esperto di tennis intanto andiamo a vedere un po' una prova audio l'audio regge l'audio regge Giuntoli ha di fatto dato il ben servito ad Allegri e si dice che era un grande no non credo non credo ancora presto dice attenzione a Rai News 24 il tifoso della Roma nonché grandissimo campione del tennis italiano Adriano Panatta il gol di Acerbi andava annullato ma soprattutto è mostruoso quello che dice dopo il VAR lo aveva annullato ma quando ma Panatta ma datti al tennis volevo dire all'Ippica ma sei un grande tennista sei stato un grande tennista il VAR lo aveva annullato il VAR non può fare annullare niente informati meglio prima di dire queste il VAR lo aveva annullato l'arbitro invece ha interpretato che la spintarella di Turam ma quale spintarella di quale spintarella parli ma non c'è nessuna spintarella al portiere nostro era leggera dice nostro perché sono romanista allora non gli è chiaro però finiamo di sentire queste elucubrazioni il direttore di gara ha deciso così perché conta più del VAR allora a che serve il VAR nel primo tempo l'Inter non era ingiocabile perché la Roma ha dominato invece nel secondo tempo ha messo la quinta e sembrava ingiocabile per cui sono anche obiettivo dice però non ha chiaro il regolamento sarà pure obiettivo ma non ha chiaro il regolamento allora il VAR non può annullare una peata niente il VAR valuta il fuorigioco in modo oggettivo e valuta Turam in posizione irregolare fuorigioco netto chiaro ora però esiste il fuorigioco attivo e il fuorigioco passivo che non è compito del VAR valutare ma è dell'arbitro che quindi viene richiamato perché si può valutare deve dirlo lui l'arbitro valuta vede che Turam non c'è nessuna spintarella non interferisce non è sulla visuale non impedisce al portiere della Roma di tuffarsi perché la palla va a sinistra e Turam è a destra e il difensore che magari può impedirgli qualche visuale po po di visuale e mancini quindi maglia giallorossa non nerazzurra quindi Turam si disinteressa dell'azione non spinge proprio nessuno non va nella direzione dove si deve tuffare il portiere non influisce sulla traiettoria quindi gol regolare ma è l'arbitro che deve fare questa valutazione non il VAR che non ha annullato niente chiama l'arbitro perché lo deve chiamare perché non può prendersi nessuna responsabilità di decisione sarebbe un errore grave di protocollo se il VAR si mette a dire questo è attivo passivo non sta a lui Panatta grande tennista ma di calcio non capisce niente perché lo dice lui poi abbiamo detto di Cairo che ovviamente spazio sulla gazzetta dello sport ovviamente l'editore dice se guardi i campionati più importanti d'Europa sulle 20 squadre quello inglese e quello spagnolo hanno 20 squadre vuol dire che è quello il format che funziona ma cosa cosa dici cioè in Spagna due lottano per lo scudetto ogni tanto si inserisce l'Atletico Madrid e funziona ma che funziona cosa che significa funziona funziona perché perché funziona a 20 che si giocano 38 giornate non c'è lo spazio nel calendario la Serie A che era un mondiale negli anni 80 aveva 30 giornate quella funzionava perché c'erano i campioni no 30 o 32 o 35 o 40 o 80 l'incontro in FGC delle tre squadre Inter Milan e Juventus non è stato ben visto è giusto che la Lega abbia una sua compattezza ci sono dei diritti che la Lega ha e deve avere legati al fatto che la Lega Serie A mantiene tutto il calcio italiano di conseguenza deve avere una sua autonomia e mantenere il diritto di veto il timing di quell'incontro è stato totalmente sbagliato vi preoccupa questa spaccatura con Inter Milan e Juve non è una spaccatura loro hanno avuto un atteggiamento sbagliato per me come per il resto dell'Assemblea essendo in un'associazione con 20 squadre è giusto che ci sia un rispetto reciproco che in questo caso è mancato può minare anche la fiducia in chi vi rappresenta nel Consiglio federale per esempio Marotta non se n'è parlato certamente chi rappresenta la Serie A in Consiglio federale deve rappresentare tutti non è lì a livello personale ma corale nessuno ha chiesto le dimissioni di Marotta no assolutamente no qual era il clima in Assemblea il clima era cordiale civile senza toni alti si è discusso in maniera positiva ma le cose che si sono dette sono queste quella che hanno voluto fare è sembrata una super leghina la super leghina Cairo Cairo la super leghina pensa un po' cioè uno vuole fare il campionato a 18 anziché a 20 è una super leghina guarda che c'erano uguali le retrocessioni le promozioni va bene per modo di dire si fa per dire e ce ne sono ce ne sono ancora per esempio per esempio il famoso articolo perché in settimana ci pensa lui De Rossi io scelgo Lukaku Turam bravo ma continuo a preferire Lukaku lo preferisco perché se il belga si trova uno contro uno col portiere la sentenza è già scritta chi lo ha detto sì proprio lui il direttore del Corrierello Sport in prima pagina sempre sì a sottolineare nel suo editoriale Turam bravo e continuo bravo non continuo bravo ma continuo a preferire Lukaku perché perché quando arriva lì nell'uno contro uno non ha problemi e guarda caso nell'uno contro uno ha sbagliato Turam un gol e mezzo decisivo migliore in campo dall'altra parte peggiore in campo e lui l'aveva detto ma è bello che l'aveva previsto perché aveva detto io sull'Inter continuo a sbagliare i pronostici e gliel'avevamo detto non li fare non li fare ma lui imperterrito continua continua poi c'è questa storia dei tre anni che veramente già sa chi c'era cascato ci casca anche di canio perché cosa dice di canio quando è andato via un'ana sembrava che fosse andato via buffone un portiere che ha fatto una buona stagione ma che all'ajax faceva due papere a partita sommere a tantissime presenze in nazionale Pavare un campione del mondo ha vinto tutto da protagonista è diverso da un calciatore che paghi 50 come prospetto l'inter è in ritardo di tre anni per me era la più forte già tre anni fa hanno problemi vera me io dico ma per questo è importante avere un minimo di istruzione scolastica cioè se tu fai un minimo di aritmetica sai che se sei nel febbraio 2024 tre anni fa non lo so secondo Sacchi e Di Canio in che anno andiamo a finire secondo la matematica andiamo a finire nel febbraio 2021 febbraio 2021 era l'anno in cui il mese in cui l'inter superava il Milan batteva la Lazio batteva il Milan iniziava la serie delle undici vittorie consecutive e andava poi nel maggio successivo a vincere lo scudetto secondo Sacchi e Di Canio l'inter sono tre anni che non vince il campionato ma come contano ma che scuola dell'obbligo hanno fatto vabbè sono tre anni che è in ritardo l'inter è in ritardo di tre anni ha fatto una finale Champions ha vinto cinque coppe ha vinto lo scudetto due anni e mezzo fa ma per lui niente l'inter è in ritardo di tre anni per me era la più forte già tre anni fa ma infatti ma anche due anni fa secondo me era la più forte poi per inesperienza dell'allenatore dei giocatori non è riuscito a vincere ma inesperienza dei giocatori di quale giocatore la finale dell'anno scorso ha dato una grande motivazione quest'anno sta tirando fuori tutto perché la squadra c'era già tre anni fa ma adesso è arrivata la sua completa maturazione vabbè su questo stanno facendo delle cose meravigliose su questo siamo d'accordo ma sta cosa dei tre anni l'inter è in ritardo di tre anni ma dove il ritardo di tre anni perché su cosa ma di canio anche tu poi attenzione perché entra nei nuovi mostri questo ve l'avevo già anticipato perché non so ieri era uscito un po' il discorso ed è successo vi ricordate la supercoppa italiana Bonucci che voleva entrare non entrava per battere il calcio di rigore ma protestava a bordo campo ormai non era diventato un panchinaro era diventato un protestatore uno che protesta neologismo brutto rissa con l'allenatore dei portieri della squadra avversaria in Turchia Bonucci a nervi tesi cosa è successo Bonucci protagonista di una rissa nell'intervallo della partita del campionato turco che vedeva la sua squadra il Fenerbahce impegnata contro l'Alhania Sport ora Dzeko stava conducendo dopo anni il Fenerbahce alla vittoria del campionato contro il Galatasaray di Cardi Mertens e compagnia di Okan Buruk ci mancava Bonucci per fargli perdere per fargli perdere il campionato dalla panchina addirittura si mette a fare danni l'ex difensare della Juventus non schierato tra i titolari è andato all'Union Berlina e li stava facendo retrocedere via è andato al Fenerbahce adesso gli fa perdere il campionato da panchinaro panchina là panchina là panchina là però ha ritirato la causa alla Juventus alla fine del primo tempo ha raggiunto poco prima del tunnel degli spogliatoi un avversario lo ha iniziato a spingere lo ha spintonato un gesto a cui ha risposto l'allenatore dei portieri dell'Alhanian Sport Metinaktas che a sua volta ha strattonato Bonucci il faccia a faccia tra i due non è stato certamente amichevole poi la partita è terminata due a due e c'è questo spintonarsi qui che si intravede so che si vede un po' così ma insomma ci sono stati questi atteggiamenti che non ci sorprendono purtroppo perché è andato via dall'Italia con l'immunità lui spingeva gridava entrava in campo succedeva di tu un po' come se Allegri andasse ad allenare all'estero e a fine partita va a insultare l'arbitro ne parlerebbero lo squalificherebbero qua si se ne parla nervoso 10.000 euro e riprovaci e riprovaci ecco per dire proprio dicevamo ecco il riassunto di Turam alle stelle e Lukaku nelle stalle e questo bell'articolo sul libero di Claudio Savelli che scrive l'Inter conosce benissimo queste prestazioni di Romelu Lukaku un gigante contro le piccole un danno contro le grandi le ha vissute sulla sua pelle nelle due finali continentali quella dell'Europa League con Conte in panchina e quella di Champions con Inzaghi la scorsa estate e in alcuni grandi sfide niente di nuovo se non essersene liberati e avere un Turam che prende vita al contrario di Lukaku sorridendo divertendosi impegnandosi la spizzata di testa nell'area difensiva è un assist ad acerbi anche un attaccante dovrebbe sapere come si rinvia il pallone l'indecisione davanti a Sommer è tutto un programma che faccio tiro rientro driblo e alla fine non faccio niente la Roma non lo ha preso per questo e dovrebbe iniziare a chiedere il conto dell'investimento a Lukaku accolto come il messia e ora uomo in meno mentre Turam la prova del 9 delle squadre è segnata dai 9 Romelu l'unoturam si che tra l'altro sta segnando con tutte le big il santo francese stupisce per la felicità con cui gioca il suo sorriso dopo il gol che ricorda l'Inter di divertirsi in campo perché così vincere è più facile e la sua simpatica negazione del secondo gol che era in realtà un autorete di Angeligno faceva no no non ho segnato io come con gatti tra l'altro ho sentito dire Angeligno Angelino Angelo ma ragazzi ma non è amico vostro piccolo Angelo Angelia Angeligno Angel Angel come Miguel Angel è spagnolo Angeligno Angeligno la porta girevole di questi due attaccanti ricorda che il calcio non è solo tecnica tattica e fisico ma anche e soprattutto emozioni tu chiamale se vuoi emozioni sono quelle che ti uccidono dentro per un uomo come te Romelu che quando saluta saluta davvero emozioni come si fa e ora andiamo veramente al grottesco entriamo in tutta la frustrazione romano juventina allegriana di questo corriere dello sport che dopo Roma Inter non ci sta non ci sta e si aggrappa pure all'arbitro all'arbitro sentite un po' qua partiamo prima del direttore del corriere dello sport dall'editorialista Alessandro Barbano che cosa scrive il calcio è inventiva coraggio e spirito di gruppo per questo la sconfitta della Roma di Daniele De Rossi contro l'inarrestabile intervalle simbolicamente quanto una vittoria pensate un po' la Roma asfaltata nel secondo tempo dopo che nel primo l'Inter era stata quanto meno un po' svagata diciamo così sul giornale romano corriere dello sport però non è il romanista corriere dello sport la sconfitta della Roma vale una vittoria anzitutto perché sul risultato pesa il primo gol regalato dall'arbitro a Inzaghi regalato dall'arbitro questo giornale nazionale con una giurisprudenza creativa figlia dei nostri giorni Marco Guida considera non interferente il fuorigioco di Turam posizionato oltre l'ultimo difensore a contatto con Rui Patricio poiché sul colpo di testa di Acerbi il portiere non è condizionato nella visuale della traiettoria e nella libertà dei movimenti il direttore di gara ignora o finge di ignorare attenzione qua proprio accusa pesante che l'interferenza sta nel piazzamento dell'estremo difensore quando Acerbi stacca di testa per colpire la presenza di Turam di fianco a Rui Patricio induce il portiere a presidiare quella zona della porta non potendo prevedere dove sarà indirizzato il pallone quindi il fuorigioco impatta sull'avversario perché l'attaccante interista è a contatto fisico con il portiere e ne condiziona la posizione secondo una interpretazione logica di un regolamento confuso e inadeguato avrebbe dovuto essere fischiato ma nel calcio delle regole fai da te tanto poi si trova la pezza accade il contrario scrive Alessandro Barbano secondo me l'invidia per il suo direttore voleva entrare nei nuovi mostri dice lui entra sempre con più citazioni e io mai e allora voglio entrare anche io e quindi ci tiene a dire che la Roma ha vinto simbolicamente la partita anche perché il primo gol è un regalo dell'arbitro cioè Turam che è qua e non spinge non ostacola la visuale non proibisce al portiere lui Patrizio di tuffarsi a seista perché lui dice lui non lo sa che Acerbi tirerà là e quindi vuole stare dove sta con le braccia larghe e dove sta Turam ma Turam non gli impedisce di allargare le braccia è Mancini che gli impedisce di guardare Acerbi anzi se si fosse fatto un po' più a sinistra magari la prendeva gliel'aveva detto Turam se vai un po' più a sinistra è meglio ci teneva a dire la sua a passare alla storia dei nuovi mostri mentre per quanto riguarda per quanto riguarda il direttore del Corriere dello Sport scrive la Roma è mancata per 20 minuti dal 46esimo al 65esimo in quei 20 minuti l'Inter ha mostrato il suo lato Tyson sfruttando con decisione gli esterni approfittando dell'inconsistenza difensiva degli spiazzamenti di Carsdorp e Angeligno ha rimesso la testa davanti e giocato di controllo risultato peraltro non semplice il gol di Bastoni al 95esimo lo considera una punizione inutile eccessiva ma come inutile ma come eccessiva Lukaku e Dybala sono stati tra i peggiori in rapporto alle qualità che possiedono Romelu ha perso il confronto diretto con Turam per una squadra come la Roma l'evanescenza dei due fuoriclasse è un danno non da poco va detto che raramente quest'anno avevo visto l'Inter subire le iniziative dell'avversario Sommer ha avuto tanto lavoro da sbrigare ed è davvero insolito per lui subire due gol se si pensa che nelle prime 22 partite ne ha incassati 10 meno di uno a gara ora tutto sto lavoro di Sommer il tiro di Esharawi all'inizio sotto la traversa il tiro di Spinazzola a squadrare la porta nel secondo tempo e la parata bassa sul Lukaku grande lavoro di Sommer i due gol sono abbastanza imparabili tra l'altro la punizione dell'1 a 1 anche ho provato a vederle rivederla ma non si capisce bene fa letto non fa letto ma comunque diciamo che non è andata giù per esempio già andando a prendere una moviola un po' più normale e qui siamo sulla gazzetta dello sport scrivono il gol di Acerbi e il VAR Mazzolini più pairetto Avar richiama al video guida che guarda riguarda e conferma il gol bravo il contatto Rui Patrizio Turam in offside ma non influente esiste ma non crea interferenza per un pallone che fra l'altro si infila nella parte opposta rispetto ai due in causa gol valido e questo diciamo è anche una moviola rispetto a quella del corriere dello sport che ovviamente come Zazzaroni come Barbano come tutto il corriere dello sport scrive anche nel capitolo moviola la regola sul fuorigioco parla di interferenza con il movimento dell'avversario e di capacità dell'avversario provate a chiedere a 100 portieri cosa significa preparare una parata con un avversario addosso non è addosso è a destra e ancora se la valutazione va fatta quando il pallone passa vicino a chi commette interferenza sul regolamento non c'è scritto però nel caso significa anche vicino a Rui Patrizio già che li avete sotto mano chiedete ai 100 portieri li avete sotto mano di cui sopra cosa succede se preparano la parata quando il pallone gli passa vicino sempre gol Paredes poi dice non ci sono altri episodi a segnalare Paredes su Acerbi una leggera spinta peccato che poi ci sia un Mancini che andava ammonito almeno due volte oltre a quella quando è stata ammonito cinque minuti prima non viene ammonito ma loro sfugge tutto ciò Paredes spinge leggermente Acerbi che accentuando sbatte sull'autaro ma il rigore non è fallo e il pallone non è in gioco quello sì non era rigore infatti ma nessuno lo reclama chiudiamo anche il capitolo Gazzetta dello Sport Sacchi perché Sacchi alla fine alza bandiera bianca sul ponte sventola bandiera bianca segnate questo giorno siamo entrati nella festa degli innamorati mercoledì 14 di febbraio e dice Sacchi suggerisco tre parole che a mio avviso definiscono perfettamente l'Inter forza esperienza tecnica potrei aggiungerne altre ma credo che il senso della squadra di Simone Inzaghi stia soprattutto in questi termini contro la Roma all'Olimpico e dunque in una trasferta tutt'altro che semplice ha dato una dimostrazione di grande compattezza di notevole maturità di spirito di sacrificio tutti si aiutano tutti collaborano tutti cercano di rendersi utili salto di connessione ma ci risiamo con le parole di Sacchi tutti cercano di rendersi utili alla causa questo sì che è un bel segnale in vista di un finale di stagione che vedrà l'Inter protagonista poi come dicevo la forza l'esperienza e la tecnica dei ragazzi di Inzaghi unite a un gioco che via via sta diventando sempre più europeo sta diventando più europeo a Rigo due anni fa l'Inter andò a Roma vince 0-3 e fece una partita spettacolare senza amnesia nel primo tempo non è diventata o sta diventando europea l'Inter lo è sempre stata con con Inzaghi hanno fatto la differenza adesso si sentenzierà che con questo successo l'Inter ha ammazzato il campionato e si è presa mezzo scudetto poi dice su Turam bravissimo forte fisicamente veloce un lottatore che aiuta la squadra e che è pure abile di testa quando i verazzurri l'hanno acquistato nell'estate scorsa hanno davvero trovato un tesoro e su Inzaghi Simone Inzaghi in quest'ultimo periodo ha fatto notevoli passi in avanti prima era un tattico adesso si sta evolvendo e si sta avvicinando a quella figura di stratega che è necessaria se si vuole conquistare la Coppa dei Campioni peccato che l'anno scorso è arrivato in finale Inzaghi in Coppa dei Campioni l'Inter mi sembra un blocco molto unito che va avanti seguendo un chiaro disegno tattico c'è un progetto insomma ci sono idee e queste alla lunga fanno la differenza ecco chiudiamo quindi dicendo che forse Sacchi non si era visto le partite dell'Inter quando parlava due anni fa e tre anni fa è l'unica spiegazione a Rigo che però oggi ammette tutto candidamente l'evoluzione l'evoluzione e dopo l'Inter ci prova con Rabiot ma Rabiot dice no c'è stata anche questa prima pagina in settimana l'Inter fa paura ma la Juve non ne ha veniteci a prendere fatto l'Inter fa paura ma la Juve non ne ha ovviamente è tutto sport che può concepire e pensare a una prima pagina così divertente chi se no chi se no era domenica 11 di febbraio la capolista rimonta a Roma con una clamorosa prova di forza era la vigilia di Inter-Udinese l'Inter fa paura ma la Juve non ne ha e perde con l'Udinese forse era meglio se aveva paura allora Vlaovic out Allegri di Lanciamili Calcaraz sogna De Agostini lo scudetto è ancora possibile andatelo a richiamare extra l'altro anche Inter che segnò un gol con la papera di Antonioli in un Milan Inter storico 1-1 richiamate De Agostini tutto sport dopo il giorno dopo i Udinese e vediamo se dice che lo scudetto è ancora possibile magari è ancora della stessa idea della stessa idea ovviamente per un corriere dello sport che esalta Lukaku come linea editoriale come linea di Lukaku e più forte di Turam eccetera eccetera preferisco ancora Lukaku la gazzetta da quest'estate c'è stata proprio la 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 scelta insomma di di anche di di criticare un po' quella che era che era stato il percorso di Lukaku le scelte discutibili insomma tutto quello che che era stata una telenovela ve la ricordate la Juve non Juve ma vado non vado all'Inter vado alla Juve no non vado alla Juve vado alla Roma oggi in questo articolo dopo Roma-Inter si scatena la gazzetta ricorda un po' quello che come come era andata come era andata no eccolo qua assist agli avversari gol divorati fantasma nei big match viaggio nella crisi di Lukaku Big Rom ha servito involontariamente ad Acerbi la palla dell'1-0 poi ha fallito due occasioni nitide davanti a Sommer De Rossi lo difende facile mettere sulla bilancia gli episodi e quindi però mi è parso un po' diciamo così sospetto il timing finisce la partita viaggio nella crisi di Lukaku mi è sembrato un po' Piero Angela con Quark viaggio nella crisi di Lukaku assist agli avversari gol divorati fantasma nei big match Romelu perché Romelu perché Romelu allora ripeto l'avvicinamento siccome sto andando a ritroso siamo arrivati adesso alla settimana scorsa arriviamo a martedì perché è la settimana dei nuovi mostri e c'era stata appunto il Corriere Sport che diceva provaci De Rossi e poi nessuno è imbattibile sì durante la settimana c'è stato tutto questo crescendo di incoraggiamento alla Roma ci rimane solo la Roma nessuno è imbattibile De Rossi voglia una squadra spavalda insomma la carica la carica la carica dell'ambiente romano ma soprattutto il famoso e sempre puntuale direttore del Corriere dello Sport che diceva spero che De Rossi faccia bene per più di un motivo in Roma Inter come la giocherà De Rossi punterà sulla difesa ardita e la risalita avendo un centrocampo inferiore sotto tutti i punti di vista a quello di Inzaghi oppure investirà su una proposta ambiziosa di gioco integrandola eventualmente con uno o più marcature dedicate penso innanzitutto a quella per Suacan Pirlo Cialanoglu perché voi sapete che una sua famosa frase ormai dice se gioca una squadra che ha Cialanoglu contro una squadra che Cialanoglu non ce l'ha dovrebbe arrivare un Meteorite per far perdere la squadra che ha Cialanoglu peccato che Cialanoglu Scudetti fino a oggi non ne ha vinti e quindi i Meteoriti sono piovuti negli ultimi anni oggi affronta il primo avversario importante il giorno di Roma Inter la superpotenza del campionato capace l'RSA era l'inizio dell'anno adesso è la superpotenza capace fin qui di schiacciare tutte le altre big o presunte tali schiacceremo tutti aveva detto un famoso presidente che è arrivato a sei trofei sei sei trofei e insegue il settimo il test è delicatissimo e indicativo mi auguro che Daniele faccia bene dice Zazzaroni alla vigilia e per più di un motivo pur ribadendo che Murigno resterà per sempre il mio principale punto di riferimento calcistico impossibile tradire uno come lui spero appreziate la sincerità e se non lo apprezzerete me ne farò serenamente una ragione ma mi auguro che Daniele faccia bene per più di un motivo qual è il motivo è l'avversario il motivo lo puoi dire visto che siamo in sincerità in sincerità e poi ha parlato in settimana anche prima di Roma Inter anche Fabio Caressa che diceva l'Inter è effettivamente più forte della Juve ma c'è tutta questa distanza nella rosa la risposta secondo me è sì i giocatori dell'Inter stanno performando molto meglio di quelli della Juve poteva essere pensabile questo in origine quando abbiamo fatto la conta di tutti gli acquisti dal punto di vista economico sicuramente la Juve ha investito molto in Chiesa Blaovic in giocatori importanti alcuni magari sono stati sopravvalutati dall'altra parte abbiamo acquisti strepitosi come Lautaro Turam nessuno poteva immaginarlo a questo livello la verità è nel mezzo dice Caressa tra quelli che dicono Aladani che è tutto frutto del lavoro dall'altra ci sono quelli che invece dicono la superpotenza Inter che sul mercato ha sbaragliato tutti dice Caressa la verità è nel mezzo certamente l'Inter ha migliorato i suoi giocatori negli anni di Zaghi possiamo dire tranquillamente che in questo momento l'Inter è più forte ma il campionato non è chiuso ci sono ancora tanti impegni secondo me è una contrapposizione giusta che non va esasperata in questo caso non mi schiero do ragione a tutte e due le parti la rosa della Juve è inferiore all'Inter certamente lo è per il lavoro fatto negli anni e non in partenza io credo che questa possa essere una sintesi condivisibile cioè non possiamo dire e quindi pende pro ad Ani in questo senso cioè nel senso non possiamo dire che all'inizio Allegri è stato preso per perdere in tre anni o non possiamo dire che Inzaghi è stato preso aveva la strada asfaltata spianata per andare a vincere nel 2021 sono arrivati insieme e la Juve ha speso quando ha comprato quei giocatori poi c'è stato il lavoro c'è stata l'evoluzione delle squadre e quindi la rosa della Juve oggi è inferiore all'Inter sì ma non perché non sono stati comprati i giocatori ma perché oggi i giocatori pagati anche tanto valgono meno di quelli dell'Inter e quindi questo è anche merito non solo della dirigenza dell'Inter ma anche dello staff tecnico poi è molto divertente anche Giuliano che dice faccio grandi complimenti per la stagione ad Allegri proprio lui Giuliano di Juve Inter dice carini che abbiamo parlato settimana scorsa faccio grandi complimenti ad Allegri che ha vissuto momenti difficili e nonostante tante difficoltà e infortuni è riuscito a portare la Juve al secondo posto dietro a un Inter che tre spanne davanti a tutti la Juve ha fatto più di quello che ci aspettavamo tutti dopo Sassuolo sembrava tutto da rifare ma ha tenuto duro e sono sempre rimasti attaccati se vediamo il numero di gol di Lautaro e Turam se li avesse avuti la Juve sarebbero stati loro davanti a tutti penso che anche tra gli allenatori più blasonati nessuno avrebbe potuto fare quello che ha fatto Allegri in questa situazione torniamo al miracolo al miracolo come dice Luca Marchetti abbiamo detto fino a pochi giorni fa che ha fatto un miracolo adesso non possiamo criticare Allegri e anche Giuliano dice dategli ad Allegri Lautaro e Turam magari la palla in avanti non arriva non lo so meglio di no non diamoglieli comunque non diamoglieli ecco molto simpatico devo dire perché ovviamente la Juventus ha fatto discutere di più in settimana però lì poco alla volta sta risalendo il Milan al terzo posto a un punto dalla Juventus ogni tanto torna a parlare Giorgio Furlani l'amministratore del Milan dopo anni difficili il risanamento il rilancio di questo club che rappresenta la storia del calcio italiano nel mondo è stato reso possibile il risanamento il rilancio di questo club è stato reso possibile dal fondo Elliot che ha evitato il disastro del fallimento oggi invece viviamo una fase di accelerazione e crescita bene sullo stadio forse ne occorre uno nuovo e da più di 5 anni che lavoriamo per dare al Milan un nuovo stadio abbiamo dimostrato che per noi è una priorità faremo ogni sforzo è fondamentale per il futuro del club abbiamo in cantiere un grande progetto a San Donato siamo in una fase di crescita del Milan sotto la guida di Redbird e lo stadio rappresenta un pilastro fondamentale su cui tutto il management è focalizzato a partire dal presidente Paolo Scaroni attenzione qua su Scaroni dopo che Elliot ha evitato il fallimento al Milan ma l'hanno detto anche altre volte loro parliamo di un manager dallo spessore unico a livello internazionale una leadership fondamentale in questi anni con grande passione ha guidato progetti strategici per il club a partire proprio dal piano per il nuovo stadio e se questi sono i nostri impettai sono i nostri rivali lunga vita i nostri rivali lunga vita ad Allegri lunga vita al manager dallo spessore unico Scaroni a Furlani lunga vita lunga vita lunga vita a loro ovviamente tra quelli che quest'anno sportivamente si sono suicidati c'è il presidente del Napoli che abbiamo detto in settimana ne ha detto di tutti i colori su gli acquisti non acquisti spalletti lo dovevo tenere ma poi dice anche dice con il presidente del Napoli è tornato alla carica con il discorso tenuto in senato al Napoli Club Parlamento queste le sue parole riportate da Mediaset sono qui perché dovete salvare il calcio dice altrimenti tra 20 anni morirà 18 squadre non è così che si risolvono i problemi c'è un campionato della parte sinistra della classifica e uno della parte destra le squadre che rappresentano città con 20.000 abitanti falsano il campionato cioè se tu hai 20.000 abitanti falsi il campionato le società devono poter essere i procuratori dei propri calciatori se ingaggio un ragazzo di 17-18 anni non posso farti soltanto 5 anni di contratto devo essere libero di fargliene 7 8 e se poi alla fine del periodo contrattuale vuole andare via allora può andare devo decidere io non i procuratori cioè lui vuole fare 8 anni di contratto e poi anche capito tenere il faraschelli a un milione all'anno questo è mazzocchi magari prende il doppio ma fa niente De Laurentiis De Laurentiis e vabbè e vabbè avevo detto che in settimana Sabatini è stato voleva attrarre un po' la sua attenzione e allora su tutto sport questa Inter che nasce anche dal caso anche però poi nel titolo diventa tutto un caso è l'ora di farla finita con gli allenatori che migliorano i giocatori come se fosse una regola fissa dice Sabatini c'è proprio gli dà fastidio che si diano i meriti a Inzaghi su Cialanoglu su Di Marco su Michi su Turam su Lautaro e su tutti e basta con sta storia che gli allenatori migliorano oh l'Inter è frutto di bravura opportunismo e anche casualità allora parliamo dei giocatori per esempio Cialanoglu si dice che Inzaghi abbia lavorato su Di Luì e perché allora Gianpaolo e Pioli cosa facevano? già così fa ridere Gianpaolo e Pioli su Cialanoglu rendetevi conto che c'è una situazione in cui se dici che Inzaghi ha migliorato Ciala fai un complimento meritato per Inzaghi ma anche una critica secondo me meritata per Pioli ma cosa dici? ma qua siamo veramente siamo veramente all'ammazza caffè no? alla frutta ragazzi cioè basta con questa storia che i giocatori che gli allenatori migliorano i giocatori se diciamo che Inzaghi ha migliorato Cialanoglu Pioli si offende l'esa maestà ma lo dice Sabatini non Pioli Pioli non ha detto niente dice Tebas in un'intervista a Fabrizio Romano sulla Superlega non credo che la vedremo ho detto che mi sono giocato tante cene in tono scherzoso c'è tanta storia dietro ma non si vedrà la sentenza dell'Unione Europea è stata distorta dice cose importanti sulla UEFA ma non sulla Superlega così come viene proposta non ci sarà la Superlega e qual è la cosa che la lascia più perplesso? ha avuto un dibattito d'Anversa con Bernd Copperfield lo chiamo Bernd Copperfield perché tira fuori i trucchi dal cappello è un mago dice che il modello non fa male ai campionati nazionali e ovviamente non è così quella era una bugia ecco perché la chiamo magia anche il mondo della televisione le fa nell'ipotesi che i match della Superlega fossero gratuiti cosa che è impossibile non esisterebbe un mercato pubblicitario per mantenerlo dice Tebas se martedì mercoledì e giovedì c'è il calcio d'élite gratis cosa facciamo con i campionati nazionali? facciamo pagare? è come se durante la settimana ci fosse il pollo gratis e nel fine settimana lo facciamo pagare non avrebbe senso qua non Tebas ma la Superlega è mostruosa perché c'ha ragione tutte queste proposte che non stanno in piedi della famosa la zombie league come ha definito Seferin ma soprattutto qua questa cosa che è tutto gratis tutto gratis in tv lui dice è come se durante la settimana ci fosse il pollo gratis e nel fine settimana poi diciamo no per la serie A lo devi pagare non avrebbe senso uno si abbuffa il martedì il mercoledì il giovedì e il sabato non viene più a comprarsi il pollo e quindi salta tutto allora in questa ricostruzione qua allora così chiudiamo intanto tutto sport sempre Alcaraz infiamma la Juve l'altra volta era il nuovo Vidal poi un misto tra De Paul non mi ricordo chi insomma poi questa è pure bella idee chiare parole coraggiose e un gran gol dice con Real Madrid no un gran gol in allenamento di Alcaraz prima pagina un gran gol di Alcaraz in allenamento contro chi stava in porta la sagoma che non si muoveva gran gol prima pagina titolone gran gol in allenamento di Alcaraz ma questa prima pagina non l'avevo salvata per il gran gol di Alcaraz in allenamento ma per quanta bellezza Inter quella bellezza quanta bellezza lo dico io quella bellezza nata un po' per caso articolo che passa alla storia circola una narrazione malefica eppure qualcuno ci crede scrive Sandro Sabatini l'Inter vince grazie ai parametri zero quindi bravissimo Inzaghi la Juve perde malgrado i milioni spesi perciò scarsissimo Allegri la discussione è così polarizzata e violenta che diventa quasi inutile rispondere tempo perso e fiato sprecato ma a parte che nessuno ha detto Allegri scarsissimo Inzaghi bravissimo perché lui deve esagerare per poi dire come si fa a dire una cosa del genere ma almeno qui si può provare ad argomentare senza la manipolazione dialettica tipo montengaggi parametri e dettagli simili a beneficio di argomenti tecnici tattici e insomma puramente calcistici come se i soldi fossero un dettaglio nel calcio questa Inter che sta che sta meritatamente dominando il campionato nasce per bravura opportunismo e senza offesa anche casualità peccato che il titolo diventa Inter quella bellezza nata un po' per caso non dice il titolo l'Inter nata per bravura opportunismo e anche casualità no? dice proprio nata un po' per caso il caso più clamoroso è Cialanoglu diventato miglior play a livello internazionale eppure per giocare al posto di Brozovic si era messo in fila e poi continua il nostro carro editorialista andiamo a prendere un'altra parte eccolo qua facciamola finita abbiamo già detto con i giocatori gli allenatori che migliorano ma poi dice anche allora nasce quest'Inter ben costruita benissimo allenata anche dalle opportunità successivi a due tradimenti improvvisi che sembravano quasi irreparabili infatti arrivano il campione del presente Pavar e il prospetto del futuro Bissek solo grazie a Skriniar che giocherella con il rinnovo del contratto e la fascia da capitano salvo poi scegliere Parigi allora no perché Pavar arriva per Skriniar ma Bissek arriva per D'Ambrosio quindi non è che adesso sono arrivati tutti per Skriniar secondo Skriniar è tra l'altro pure un errore perché se no l'Inter avrebbe avuto più soldi per prendere anche altri giocatori in più l'arrivo di Turam è invece legato a Lukaku niente di più sbagliato Lukaku era stato preso proprio al posto di Pavar con i soldi di Pavar poi sono andati su Pavar perché Lukaku non è stato più preso ma invece per Sabatini l'arrivo di Turam è legato a Lukaku il tradimento che è più appassionato e avvelenato sotto l'ombrellone fa molto vintage proprio come il tradimento riferito al calcio il figlio d'arte Turam appunto è una splendida intuizione del direttore sportivo ausilio che lo coccola da parametro zero vince il derby dell'ingaggio con il Milan e quindi suggerisce a Inzaghi di trasformarlo da generosa ma sterile seconda punta a centravanti fornitore di assist e goal a parte che era un esterno più che seconda punta ma poi aveva già fatto la prima punta aggiornamento riuscito oggi ma non l'altro ieri perché durante l'estate l'Inter va a caccia di un attaccante vero e ci prova con tutti Morata Scamacca Baloghan guardo caso Taremi ha appena preso a parametro zero e perfino Schupo Moting fino a pagare 10 milioni al Bologna per il 34 e Arnautovic sai l'Inter gioca con due punte e quindi ne vuole quattro e rosa quindi prende Lautaro Turam salta Lukaku e prende Arnautovic e Sanchez al posto di Correa quattro quattro non è che perché non crede a Turam che voleva Lukaku o adesso Taremi perché Arnautovic non sta facendo neanche quattro punte vuole l'Inter quattro punte per due maglie no invece dice no l'Inter non ci credeva neanche l'Inter a Turam perché voleva Baloghan voleva Scamacca voleva Morata ricordate qual era il gran colpo del mercato nerazzurro quello strappato alla concorrenza di Napoli Roma Juventus si frattesi proprio lui è stato valutato più di 30 milioni ma finora ha giocato peraltro molto bene solo pochissime partite da titolare andrà all'europeo e sarà punto di forza in azzurro con Spalletti il giocatore c'è investimento anche ma non è un parametro zero sta in panchina rendeva di più quando era allenato da Dionisi ha un ottimo monte in gaggi personale e tutto il resto per smentire chi dice che invece capito Inzaghi valorizza no invece il contrario perché Frattesi che è stato pagato tanto sta giocando poco e questo è il messaggio Frattesi sta facendo bene e sta crescendo nell'Inter e ha davanti Barella Ciannoglu e Mkhitaryan questa narrazione o narrativa del dell'Inter che è smantellata ridimensionata che non può spendere è proprio la sua che diceva che Zhang era lì fuori da tutti i tipi di grazie e di mercati possibili immaginabili perché doveva solo vendere quindi diciamo fa una 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 ringa contro quello che diceva lui negli anni scorsi praticamente cioè vedete che non è perché adesso gli interessa di più sminuire il lavoro di Inzaghi quelli che dicono che Inzaghi è bravissimo perché sta valorizzando Ciannoglu che invece dice solo un caso Turam che invece dice no in merito di ausilio è nel solo un caso perché se c'era Lukaku non giocava e poi invece vedete che ha preso Pavara ha preso Frattesi che nemmeno gioca mentre Dionisi lo faceva giocare lo faceva rendere di più non è che Inzaghi non fa giocare Frattesi Inzaghi lo sta maneggiando con cura e lo sta inserendo gradualmente perché è a barella davanti perché in una grande squadra non è nel Sassuolo dove lo stesso Frattesi ha detto io volevo andare via ma ho fatto bene grazie a chi mi ha fatto stare altri due anni perché avevo bisogno ancora di stare ma poi ripeto si scopre completamente la natura del suo intervento uno quando nel titolo mettono l'Inter a bellezza nata un po' per caso e poi è l'ora di farla finita con gli allenatori che migliorano i giocatori ma è l'ora di farla finita perché è arrivato il momento di elogiare Inzaghi finora non era l'ora di farla finita quando c'è l'oggiare Inzaghi no è l'ora di farla finita mostruoso mostruosissimo ecco il passaggio le parole precise nel fondo del lontano ormai 9 febbraio era il 9 febbraio venerdì scorso quando il direttore del Corriere dello Sport parlava di Turam e di Lukaku fin dal primo momento l'integrazione fra Turam e Lautaro è risultata sorprendentemente naturale i due riescono ad alternarsi con facilità nel ruolo di punta centrale mettendo in grossa difficoltà gli avversari zero riferimenti tanta profondità anche di pensiero sono perfettamente compatibili perfino sul piano fisico entrambi potenti esplosivi oltre che molto mobili impongono spesso modifiche tattiche a chi li deve affrontare ma Lukaku è un mio pallino dai tempi dell'Everton presenza e una capacità realizzativa superiori io continuo a preferire Roma a Marcus anche se rinnovo i complimenti ausilio per avere visto più lontano e prima di tutti lo preferisco perché se il belga si trova uno contro uno col portiere la sentenza è scritta e quando parte da destra armando il sinistro fa paura anche ai bambini al di sotto dei 12 anni don't worry be happy e proprio a destra era Lukaku e proprio il sinistro poteva armare o forse no doveva driblarlo dall'altra parte Sommer ma insomma gli si è ritorta contro e ha scritto lui e appunto mi chiede fra tesi di migliorare ancora ma non è che è stato un acquisto sbagliato o Izaghi che non lo valorizza ah poi per arrivare a dire questa cosa della casualità di cianoglu diventato cianoglu diventato miglior play a livello internazionale sabatini sempre nello stesso articolo aveva scritto eppure per giocare al posto di brozovic si era messo in fila è stato lasciato a lungo mezzala sai se hai brozovic non è che cianoglu faceva la mezzala e quindi il centrocampo era barella brozovic cianoglu non vedo l'intera ha sfiorato anche lo scudetto quell'anno lì ha vinto due coppe prima di lui in regia vennero sperimentati Vesino barella e addirittura Gagliardini la storia è cambiata quando Inzaghi ha dato la regia al genio turco in interbarcellona in realtà l'ha data pure l'anno prima in una partita e mezza che per la panchina viene ricordata come la partita sliding doors tra probabile sonero e futuribile finale e qui anche si fa riferimento a un possibile sonero di Inzaghi in interbarcellona di cui si si era parlato ma Marotta ve lo ricordo non ha mai esonerato nessuno durante la stagione quindi non è che se lui ha scritto che veniva esonerato Inzaghi vuol dire che quella era la verità che sarebbe stata esonerata a parte che poi l'intera ha vinto la partita con gol di Cianoglu a parte i risultati e qui perché perché dice questo perché poi la teoria è l'inter che è nata la bellezza è nata per caso se l'inter non batte il Barcellona è come se poi l'avesse battuto per caso il Barcellona ha vinto al Liverpool ha messo in difficoltà il Real Madrid ha eliminato Porto e Benfica ha vinto dopo 20 anni in semifinale col Milan ha eliminato il Barcellona anche fuori casa 3 a 3 quindi a parte i risultati le valutazioni sui giocatori allenatori sono spesso soggettivi a volte contraddittorie il primo a sperimentare Cianoglu regista fu addirittura il Milan nella traumatica sconfitta d'esordio 1 a 0 a Udine della breve avventura di Giampaolo allenatore poi mezzala per tanti anni altrettante decisioni tipo quella di Maldini e Codi non rinnovargli il contratto quello che oggi il miglior regista del mondo citazione di Montella giugno 2021 veniva scaricato perché chiedeva al Milan quei 5 milioni che poi l'Inter gli dà al volo quando decide a costo di sanguinose minusvalenze di liquidare a 0 sia Gio Mario che Nainggolan è l'estate in cui l'Inter non si gode lo scudetto perché Conte non vede futuro e sbatte la porta incassando perfino un'insensata buonuscita poi qua sull'insensata buonuscita insensata buonuscita è un accordo tra le parti sono gli stessi giorni bollenti in cui Marotta e Zango offrono la panchina nerazzura d'Allegri quello è vero prima di andare su Inzaghi e il calciomercato 2021 in cui Lukaku esce ed entra Dzeko a chi mi viene venduto rimpiazzato da Dumfries e per esempio c'è Federico Di Marco già 24enne che non ha la fiducia nemmeno per essere prima alternativa di Perisic visto che a gennaio viene acquistato e ben pagato Gossens dall'Atalanta e appunto bisognerebbe dare merito ai Zaghi su Di Marco ieri e l'altro ieri Di Marco girellava in prestito tra Empoli, Sion Parma e Verona perché un anno l'Inter gli aveva preferito perfino il logoro Young dal Manchester United Conte gli aveva preferito oggi non ha rivali sulla fascia sinistra la storia nerazzura di quest'anno riporta la memoria a quello che veniva chiamato lo scudetto dei record 88-89 allenatore tra pattoni 58 punti la vittoria ne valeva 2 18 squadre quella Inter aveva preso il fantasista algerino Magère detto il tacco di Allah che però non superò le visite mediche in fretta e furia venne rimpiazzato dall'argentino Diaz che pure aveva un altro ruolo rapido e guizzante spalla ideale per il fisicato Aldo Serena e sì quello arrivò dopo il campionato iniziava il 9 ottobre ed è vero che saltò Magère però sul discorso pure di Marco oltre che Cianoglu è grande merito di Zaghi invece che non vede solo a proposito il fisicato Serena se uno ha un determinato una potenza fisica ma vede anche la parte qualitativa tecnica per il tipo di calcio che propone andiamo verso gli ultimi nuovi mostri che come vi ho detto sono tanti in settimana per esempio Neville e Keen che accusano i club italiani incontrati nel decennio 92.000 ma nessuno dei due fa i nomi alcune squadre non erano pulite una volta sono uscito dal campo contro una squadra italiana e mi dicevo mi dispiace ma c'è qualcosa che non va Neville e Keen che hanno affrontato tutte le squadre italiane dalla Fiorentina alla Juventus la Lazio anche l'Inter nel 98-99 però non specificano io contro alcune squadre mi consumavo uscivo distrutto poi guardavo agli avversari un paio di club italiani e loro sembravano non avessero neanche giocato la partita allora l'Inter quell'anno perse 2-0 col Manchester in casa 1-1 quindi non credo che era la partita a cui faceva riferimento Keen visto che ha eliminato l'Inter secondo me diciamo lui fa o loro due fanno riferimento alla Juventus per il discorso doping o abuso di farmaci la parola doping non la pronunciano mai scrive anche la Gazzetta ma le accuse sono comunque chiare piuttosto pesanti perché arrivano da due grandi ex come Gary Neville e Roy Keen penso ci siano state alcune squadre contro cui abbiamo giocato che non erano pulite e so che anche un altro paio di ragazzi la pensava come me non posso fare nomi o accusare gente ma quando ti guardi indietro vedi cosa è uscito fuori con i medici in altri sport e poi appunto dice per andare oltre servono le prove sensazioni allusioni non bastano e allora sono curioso di capire una ci fu il processo poi finito con la prescrizione il discorso dell'abuso dei farmaci Guariniello la Juve ma l'altra a chi faceva un riferimento in Italia che ripeto la partita fatta con l'Inter pareggio e sconfitta per l'Inter io mi consumavo e uscivo distrutto gli avversari sembrava che non avessero giocato la partita abbastanza mostruoso così parlare in generale Cobian dice non hai mai pensato di fare video montati in cui commenti come ora in live magari in l'arco di 15-20 minuti circa non hai mai pensato di fare video montati in cui commenti come ora in live cioè dici fare video di 15-20 minuti faccio i video di 15 minuti di solito nel weekend però tu dici fare video montati in cui commenti come ora in live quindi non interagire senza interagire sì 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 no dico sempre che devo fare di più video brevi anziché fare solo le dirette però adesso quest'anno ho iniziato a fare sempre il video settimanale se non due li rifaccio certo se ne facessi uno al giorno sarebbe anche meglio ma magari poco alla volta aumenterò i video brevi che poi se uno vuole il video di un quarto d'ora si può spezzettare la diretta in parti in parti allora c'è il gran finale però dopo l'accusa shock dei giocatori Neville e Keen passiamo al mitico incontro con Massimo Brambati e un agente FIFA che gli ha detto che Elkan corteggia Marotta così ci colleghiamo anche i giornali di domani che qualcuno mi diceva c'è il riferimento li andremo a prendere allora Brambati sgancia la bomba John Elkan vuole riportare Marotta alla Juventus e questo era qualche giorno dopo Inter Juventus peccato che nel dicembre 2022 aveva detto la stessa cosa Marotta ha già incontrato Elkan confermato dallo stesso contatto che mi disse di CR7 alla Juve contatto di CR7 che aveva ripreso anche in questa ultima situazione e poi vabbè l'aveva ripetuto anche è stato riportato ad aprile 2023 tanto che io quella volta ne avevamo parlato anche molto su Netflix e avevo chiesto proprio a Marotta ma Scrimier se ne va non se ne va ma soprattutto tu rimani o non rimani ci puoi promettere che rimani e poi ha firmato il rinnovo e ha annunciato che l'Inter sarà il suo ultimo club e ha firmato un rinnovo fino al 2027 e ha detto pure quello che vuole fare dopo l'Inter e soprattutto la Juve ha preso Giuntoli che fa il football director cosa che fa Marotta che non è un amministratore delegato come Antonello Corporetto come può essere non so Furlani o come era Giraudo Giraudo Moggi Moggi fa il calcio e sarebbe Giuntoli come ha detto Brambati e Marotta fa il Giraudo no Marotta fa l'area sportiva nell'Inter ma soprattutto ripeto sta cosa che non è venuta fuori nelle ultime discussioni che abbiamo fatto perché mi sarebbe piaciuto chiedere magari lo chiederò dico ma è lo stesso agente che l'aveva detto a dicembre 2022 potrebbe essere lo stesso agente e per questo dico io il giornalista che cosa fa accerta si accerta delle fonti e se uno mi ha detto una bufala lui dice no però è quello che mi ha detto di CR7 alla Juve ho capito CR7 alla Juve poi è andato ma se ti ha detto di Marotta che Elkan l'ha incontrato a dicembre 2022 ad aprile 2023 e adesso siamo a febbraio 2024 e intanto ha prolungato il contratto o ti sta prendendo in giro la gente oppure semplicemente anche lui lo ha saputo indirettamente e non è attendibile ma non si può continuare su sta notizia che non si concretizza e quindi evidentemente può aver avuto un fondamento nel passato Elkan può pure volere Marotta ma è già ho i miei dubbi per la convivenza congiuntoli ma Marotta ha fatto capire in tutti i modi è rinnovato il contratto ringraziando anche chi glielo ha rinnovato e questa anche in settimana siccome è anche questa di questa settimana non potevo non inserirla nelle mostruosità nelle mostruosità vediamo se ce n'è un'ultima un'ultima mi sembra di sì ecco è stata la settimana del cartellino blu ci mancava il cartellino blu dal telegraph poi è stato detto ma sarà una sperimentazione calcio giovanile andiamoci piano il nuovo cartellino blu sarà in aggiunta al giallo e al rosso senza andare a sostituirli comporterà per il calciatore che lo riceve una squalifica di 10 minuti non è però un istituto previsto per tutte le situazioni di gioco per quali è previsto per proteste eccessive o fallo tattico situazioni antisportive come possono essere le trattenute reiterate quindi se si prendono due cartellini blu o un giallo e un blu e rosso quindi è come il doppio giallo il doppio blu o il giallo più il blu già detta così vedete far ridere la novità dovrebbe essere introdotta nella riunione IFAB del 2 marzo che sarà tenuta nella città di Glasgow in Scozia la sperimentazione dovrebbe partire con la FA Cup come territorio di sviluppo primordiale a partire dalla prossima stagione vedremo se alla fine verrà approvato oppure no oppure no intanto nell'ultima Champions l'Inter aveva preso 101 milioni il Milan 85 Napoli 77 Juventus 56 quest'anno la Juve prenderà 0 il Milan è uscito nei gironi quindi a 85 non arriva l'Inter vediamo a partire dall'Atletico Madrid ecco la famosa dichiarazione di Seferin sulla Superlega dobbiamo proteggere i tifosi dobbiamo proteggere questo modello scusate per le persone e i tifosi non per l'UEFA in questo momento alcune persone stanno cercando di calpestare 70 anni di storia stanno cercando di cambiare questo modello europeo di calcio nonostante il suo successo si presentano come i salvatori del calcio ma in realtà stanno cercando di scavare la sua fossa si fingono vittime quando in realtà non sono altro che predatori confondono il monopolio con l'unità confondono l'elemosina con la solidarietà parlano molto di mercato libero ma non sanno niente della libertà di parola mai come oggi viviamo in giorni difficili ma c'è forza nell'unità e l'unità è l'unica cosa che può salvarci in Europa conta solo una legge la legge del mercato alcune persone pensano che tutto possa essere comprato tutto in vendita le persone non sono altro che consumatori questa è una prospettiva sulla vita ma non è la nostra questo non è il tipo di società che vogliamo lasciare ai nostri figli oggi pochi individui stanno cercando di dividerci nel nome del mercato libero spinti da un desiderio insaziabile di generare profitti sempre crescenti per i privilegiati so che alcuni tifosi sono critici nei nostri confronti il sentimento anti-wef anti-istituzionale è diffuso ma lo prendiamo con filosofia perché sappiamo cosa rappresentiamo rappresentiamo un ideale un fragile equilibrio tra interessi opposti e ciò ha un prezzo i club sono liberi di entrare in nuove competizioni se vogliono nessuno li vuole fermare se nessuno gli ha mai detto che non possono né nessuno gli ha mai detto che non possono possono fare quello che vogliono anche unirsi alla zombie league come viene chiamata dai tifosi inglesi o quella che io chiamo pleonexia league pleonexia è il desiderio di avere sempre di più più soldi più potere più capitali più prestigio più di tutto quello che alimenta un senso di superiorità avidità e orgoglio non ne hanno mai abbastanza vogliono sempre di più e non gli interessa se gli altri hanno meno loro sono superiori vogliono sempre di più anche se significa distruggere il resto per questo è pericoloso i tifosi di calcio non sono stupidi i tifosi sanno che il calcio non è in vendita non puoi comprare sogni non puoi comprare il merito sportivo non puoi comprare i valori che rendono il calcio un gioco forte e glorioso non puoi comprare 70 anni di storia ora è vero che diciamo la UEFA la FIFA non è che sono proprio i valori rappresentati dalle istituzioni però la zombie league in effetti o come lui la ribattezza la pleonexia league in effetti oggi è abbastanza zombie league ha più ragione Seferin che non l'amministratore delegato della Superleg che poi amministra per conto di chi di Florentino Perez e di Laporta e basta è abbastanza divertente De Laurentiis che nella lunga conferenza che se avete appunto una notte libera ecco l'amico che prima diceva io grazie perché mi puoi accompagnare in questa lunga nottata mi fai compagnia eccetera dopo di questa lunga diretta potrai se vuoi recuperare la conferenza di De Laurentiis integrale dura un'ora e tre quarti e ti fai un po' di risate veramente divertente a rappresentare diciamo una parte di questa conferenza ecco vi faccio sentire questo passaggio su Garzia le ha dette di tutti i colori De Laurentiis passando da Spalletti Garzia Spalletti che gli doveva vincere la Champions come fa l'Inter che ha 20 punti in meno di noi andare in finale di Champions e noi no ma poi soprattutto la partita decisiva in cui lui in casa sta perdendo lui va negli spogliatoi e dice oh che stai facendo ah oh è romano che stai facendo gli dice De Laurentiis che ti vuoi fare cacciare sentite un po' come va in questo dialogo con Garzia tutto fare voi che cosa avreste detto ma dice De Laurentiis è impazzito se avesse cacciato ancora una volta decide tutto lui se avesse cacciato subito Garzia io ho cercato di dare a Garzia delle opportunità e delle possibilità io ho cercato di dare parlandoci parlandoci e lui quando ha ascoltato delle volte come a Lecce abbiamo vinto 4-0 ma non è che sono stato bravo io no mi ci sono dedicato voi vi ricordate che stavo quasi sempre qua guarda caso appena io mi allontanavo faceva delle cose molto discutibili e poi perdavamo perché l'ho mandato via perché l'ultima volta sentite l'ultima volta io sono sceso nello spogliatoio prima della partita dico guarda che secondo me sbagli così a giocare mi lasci fare mi lasci fare allora uno che ti dica mi lasci fare in questo modo o lo mandi a fare o lo mandi a fan o ti sei zitto durante l'intervallo sono risceso sono spogliatoio ho detto ma che c***o stai combinando che c***o tu ti vuoi fare tu ti vuoi fare generare mandare via e difatti alla fine esatto capito sto c***o di Empoli sto Empoli dice che è sempre l'Empoli che ci crea problemi e poi che ha creato due perdite nel precedente anno dice ma dopo lei che cosa gli ha risposto a García ecco ma dopo finita la cosa ho mandato a fare e stai scherzando e l'ho mandato a fare e che stai a scherzare lui non ha detto niente ci tiene a precisare subito il responsabile della comunicazione del Napoli che cercava di contenere un po' vedete anche qui su gazzetta.it sono stati tutti diciamo oscurati tutte le frasi piene di parolacce eccetera eccetera dice e alla fine lui ha detto no mi faccia fare presidente poi ha perso la partita sono sceso negli spogliatoi e che dovevo fare che alla fine ma presidente ma poi si è fatto mandare a quel paese no l'ho mandato a fare io e l'ha cacciato alla fine dell'Aurentis dell'Aurentis Show dell'Aurentis Show allora allora vediamo sono gli ultimi gli ultimi gli ultimi gli ultimi eccolo qua la famosa prima pagina che vi dicevo ci prova lui De Rossi cioè proprio veramente come come avete presente l'uomo tigre no la tana delle tigri doveva distruggere non solo l'uomo tigre doveva distruggere proprio una autodate che era colui che come uomo tigre si era liberato di questo vincolo con la tana delle tigri e quindi gli mandava di tutto all'inizio i lottatori che lo dovevano uccidere poi hanno provato a ucciderlo Mister X fuori dal dal ring insomma in tutti i modi così il Corriere dello Sport il Corriere dello Sport se le gioca tutte speriamo nel Milan speriamo nella Juve speriamo in Max speriamo in Mourinho adesso ci prova lui De Rossi e ci prova Lukaku ci prova adesso si schiereranno pure con Simeone non lo so ma ogni volta ecco e qui anche la prima pagina in cui appunto De Laurentiis ruota libera Spalletti mi ha fatto perdere la Champions avevano avevano riportato perché in Europa stava vincendo l'Inter che aveva 20 punti in meno del Napoli con Luciano commesso un errore di riconoscenza non dovevo liberarlo giuntoli mi ha nascosto che era Juventino per 8 anni non mi ha detto che era Juventino insomma clamoroso clamoroso e questo invece è bello il centrocampo dell'Inter definito da Bucciantini un capolavoro fra le mani di Inzaghi perché chi c'è? Cialanoglu che da quando è stato spostato in regia pensarlo lì è merito di Inzaghi che non ha l'eloquio del profeta e tocca agli altri raccontare Michi Italian che ha 35 anni è un tuttocampista che offre l'intelligenza affinata dalle molte informazioni immagazzinate in carriera e poi Barella per tutto il resto c'è Barella la cassa dritta della squadra l'anima pura la dinamo che più si muove più accumula energia da spendere capace di contestare ogni centimetro di campo così come di giocate laterali le più creative le più coraggiose il coraggio appunto Inzaghi ha avuto una visione e oggi ha un capolavoro fra le mani vi ricordate la visione di Conte? io ho una visione se non mi si segue sulla visione io me ne vado eccetera e invece come dice giustamente qua Bucciantini Zaghi ha avuto una visione e oggi ha un capolavoro fra le mani Spalletti non dovevo dargli via libera aveva vinto solo in Russia insomma qua ne ha dette di tutti i colori dei Laurentiis in quella conferenza vi ho preso solo una parte però se l'andate a riprendere insomma tutta vi divertite ogni 5-10 minuti c'è da ridere dura un'ora e tre quarti e quindi abbiamo detto del rinnovo del rinnovo a Barotta giusto per rispondere a quel discorso di di Elkan che vorrebbe ancora insiste eccolo qua ecco l'Alcaraz e il nuovo Vidal cioè ogni giorno il nuovo Vidal assegnato all'incrocio nell'allenamento gran gol di Alcaraz in allenamento Alcaraz nuovo Vidal Carlos a corsa personalità sa incidere in zona gol come Arturo Allegri lo farà diventare un top player Felipe Anderson avanti tutta Copmeiners sfida a Tottenham e Manchester United di Chiesa al Bivio 5 mesi per conquistare Max e il rinnovo insomma sempre la solita tattica il portiere del Racing qui racconta l'ultimo acquisto della Juve poi si mette tra virgolette la sparata questo è il migliore di tutti quello è il migliore di tutti questo è un misto tra questo e quell'altro poi piccolo piccolo chi lo dice ma loro in prima pagina lo raccontano così lo raccontano così ah poi siamo veramente e poi andiamo dobbiamo andare sulla rassegna stampa di oggi però questo qua è pazzesco questo editoriale su l'interista di Patrick Iannarelli che avevo citato tanti nuovi mostri fa ma su questo si è superato mi ha proprio sorpreso perché il titolo di oggi è anche un po' dedicato a lui e cioè l'Inter la capolista se ne va e programma già e programma già perché lui cosa scrive invece adesso va tutto bene giusto lodare l'Inter su tutti gli aspetti ma per la solita legge del bastian contrario quindi lo lo dice pure lui si riconosce come uno che fu così dice le cose un po' bastian contrario che vuol dire al contrario della logica però è giusto sottolineare un evento che ancora non si è verificato il rinnovo di Lautaro Martinez c'è chi dirà che manca ancora molto che l'andare ad evidenziare una situazione simile vuol dire fare il male dell'Inter ma visto come sono andate le ultime vicende io due domande di programmazione me le farei le domande di programmazione stanno trattando a due anni e mezzo dal rinnovo la domanda di programmazione ma perché l'Inter aspetta così tanto ma mica sta aspettando sta dialogando i diretti interessati rispondono più o meno alla stessa maniera stiamo lavorando che vuol dire tutto e non vuol dire niente la situazione attuale bisogna si estimare alcuni dettagli l'obiettivo è quello di monetizzare l'Inter vuole attendere probabilmente in caso di passaggio del turno l'Inter non vuole attendere che non c'è ancora l'accordo se no se era per l'Inter avrebbero già firmato che vuole attendere la domanda principale è scrive ma perché l'Inter rischia sempre così tanto ma perché rischia così tanto stiamo a due anni e mezzo il problema non è la relativa scadenza ma nel caso in cui porti il giocatore all'ultimo anno di contratto rischi un crollo del valore è successo con Scriviar Brozovic e Perisic a parte che su Perisic gli hanno offerto la stessa cifra del Tottenham il Tottenham è stata una scelta del giocatore che tra l'altro adesso è ritornato in patria Brozovic alla fine ha rinnovato e Scriviar è l'errore alla fine e poi si dà e poi era l'ultimo anno di contratto con Scriviar mentre qua siamo a due anni e mezzo con Barelli e Lautaro si dà un segnale di debolezza almeno con i giocatori top che meriterebbero un adeguamento dopo una prima parte di stagione simile ma quando mai meriterebbero un adeguamento dopo una prima parte di stagione simile non è che ogni volta che uno segna aumenta l'ingaggio ogni volta che uno sbaglia diminuisce anche perché non diminuisce mai insomma la seconda viene da sé il finale pirotecnico perché non c'è programmazione ma come non c'è programmazione qui la risposta è semplicissima quel debito verso OCTRI che mette impegno la società inizia a pesare sotto tutti gli aspetti ma dove non c'entra niente col mercato si naviga fondamentalmente a vista motivo per cui bisogna lodare quando è stato fatto dal punto di vista sportivo il giocattolo è davvero bello e può portare a tanto altro ovviamente non bisogna rovinarlo e quindi sull'interista c'è un sito che è dedicato ai tifosi dell'Inter si scrive queste robe qua assurde perché non c'è programmazione c'è la teoria e che non c'è programmazione si naviga a vista nell'Inter che prende Zelischi e Taremi e ha già finito il mercato dell'anno prossimo e poi dite perché i tifosi protestano perché c'è chi addirittura fece gli istrissioni Zhang Vattene che viaggia verso il settimo trofeo c'è il secondo presidente con più numero di trofei della storia e no però vattene non c'è programmazione gli stessi siti che parlano di Inter qua scrivono queste cose qua incredibile incredibile dai chiudiamo chiudiamo i nuovi mostri con Tassotti che è simpaticissimo l'ex giocatore del Milan e della Nazionale ride lui stesso della battuta mostruosa che fa in questo momento l'Inter è abbastanza ingiocabile un po' per tutti non solo per la Juventus stanno giocando molto bene sono meritatamente in testa alla classifica c'è solo da fare i complimenti perché oltre a fare i punti giocano anche un bel calcio sono difficili da battere si sono arresi si sono arresi un po' tutti ammettono tutti si è reso Sacchi è rimasto sì un po' Zazzaroni un po' Brambati un po' Sabatini questi qua non lo so se si arrenderanno mai anche se vinci la Champions diranno eh però non ha vinto la Coppa Italia non è il triplete che periodo sta attraversando il Milan non solo nel loro momento migliore dice Tassotti ma riescono a fare risultati vincono da tanto tempo hanno infilato una serie importante se non ci fosse l'Inter sarebbero aggrappati alla lotta a Scudetto però l'Inter c'è dice ridendo non ha perso punti nonostante il Milan abbia vinto devono recuperare dei giocatori perché dietro soffrono hanno fuori calciatori importanti da tanto tempo e non si sa ancora quando rientreranno e quindi Tassotti diventa due punti il Milan se non ci fosse l'Inter sarebbe sarebbe aggrappato alla lotta a Scudetto però risponde Tassotti stesso a male in cuore l'Inter però c'è il sogno svanisce per tutte le altre se non ci fosse l'Inter però c'è però c'è questa è bella a questo punto non potendola più criticare la vogliono eliminare se non ci fosse che mostruosità che mostruosità ragazzi dai andiamo a vedere queste prime pagine dai andiamole a vedere visto che me le avete evocate già nella prima parte dei nuovi mostri partiamo dalla gazzetta dello sport Gran Galà Inter il profumo di Scudetto scatena i tifosi Gran Galà Inter vedete qua Turam con Lautaro che esulta la seconda stella può arrivare il 21 aprile nel derby e poi rischiamo già a fare i calcoli calma calma venerdì pienone con la Salernitana Inzaghi corre come il Real Madrid solo due KO uno ai supplementari tra l'altro col Bologna col primo gol che nasce da un fallo e l'angolo futuro Juve Chirischia in bilico Chiesa e Kostic via Ken Eiling Junior Galeone Max vuole restare attenzione Max vuole restare e lo dice Galeone che è molto amico di Max cosa dice Giregnò Kinzaghi accusato di aver telefonato negli spogliatoi si giustifica stavo solo proponendo un nuovo contratto nuovo che peccato che non si legge bene allora stavo solo proponendo un nuovo contratto forse contratto e vabbè lo leggerete domani sulla gazzetta dello sport la battuta di Genio Gnocchi Missione Milan vincere l'Europa League contro il Rennes arriva anche Cardinale domani i rossoneri sfidano i francesi ai playoff ovviamente domani significa giovedì vai Lazio devi crederci stasera contro il Bayern in crisi anche Verón la spinge loro più forti ma Ciro puntini puntini e anche noi tifiamo Lazio ovviamente perché come per l'Ipsia se iniziamo a eliminare una tra City che ormai 3-1 fuori casa Bayern Monaco con la Lazio e Real Madrid potrebbe essere anche più interessante fare strada in Champions Braindia su un gol real e il City decolla nel segno di De Bruyne stasera la Lazio ma anche il Paris Saint-Germain con la Real Sociedad e poi azzurre d'oro ai mondiali rossa l'attacco la nuova Ferrari Leclerc sgomma sulla nuova Ferrari non mi accontento di due o tre vittorie Quadarella fa il bis e regina del nuoto Vitozzi scatenata trionfa nel Bliat nel Biatlon vediamo il Corriere dello Sport Osi chi l'ha visto Osi Osi che torna dalla Coppa d'Africa ha perso la finale contro la Costa d'Avorio l'attaccante rinvia a domani il ritorno dalla Nigeria Napoli Nanzia ieri sera era ancora a Lagos e rischia di saltare la partita di sabato con il Genoa al Maradona Lucman e Ciuqueze già oggi da Gaspe Pioli e perché Osi Man fa sti ritardi perché lascia almeno il Napoli in Champions si riconoscente tra l'altro bisogna vedere anche chi è che poi offre la clausola al Napoli quest'estate i senatori tradiscono e la Juve si inceppa la frenata di Max Allegri ha raccolto un punto in tre gare da Chiesi Allocatelli e Vlauvi i big non hanno inciso nei momenti clou il titolo di Ivan Zazzaroni come ci diceva prima Angelo in chat mamma mi scappa marotta l'Inter è il presidente in Cina da mesi un indebitamento e uno squilibrio economico imbarazzanti ecco già sfociamo nella iniziamo con le solite le solite manfrine non sa più a chi aggrapparsi rosicando e ferito da l'ilarità suscitata da quello che ha detto su Lukaku che lo preferisce a Turam che è una sentenza sfottuto da chiunque anche sui social lui adesso mostra i muscoli e dice il direttore del Corriere dello Sport l'Inter è il presidente in Cina un indebitamento e uno squilibrio economico imbarazzanti ma lo sa che l'indebitamento finanziario dell'Inter 308 milioni addirittura è inferiore a quello della Juventus lo sa che lo squilibrio economico della Roma è peggiore dello squilibrio dell'Inter no forse no ma basterebbe chiedere informazioni anche a qualche esperto insomma di economia anche del Corriere dello Sport uno squilibrio economico imbarazzanti anche secondo numerosi presidenti di club che non mancano mai di ricordarcelo commisso Lotito e De Laurenti seppure prima in classifica e quindi si capisce dove andrà a parare mamma mi scappa Marotta cavalcando proprio questa cosa ripeto che Brambati ha detto a dicembre 2022 ribadito ad aprile 2023 e riesumato nel febbraio 2024 cioè Elkan vuole Marotta mamma mi scappa Marotta tranquilli tranquilli che non scappa nessuno ha già firmato ha un contratto ha un contratto perché l'Inter non querela Zazzaroni scrive ma non era azzurro ma querela lui dice commisso Lotito e De Laurenti fanno riferimento a società indebitate loro possono dicono anche l'Inter ha fatto notare in Lega si ha commisso in un caso ad altri in altri casi di non dire stupidaggini ma poi lui scrive numerosi presidenti numerosi presidenti che non mancano di ricordarcelo eccetera quindi c'è la querela potresti pure diciamo metterti a fare le guerre sì potresti pure ma alla fine alla fine in questi casi la migliore risposta è anche non dargli non dargli grande peso in alcuni casi in altri sì ci sta rispondere ma in questo caso voglio dire Marotta la risposta l'ha già data quindi l'aveva già detto in un altro caso Zazzaroni che lui Marotta non lo sente perché perché gli altri lo sentono perché sono amici e io già so che cosa lui dice per incartare gli interlocutori insomma l'ho detto sono rimasti meno di cinque ormai i giapponesi nella foresta lui Sabatini che adesso viene ospitato a fare gli editoriali in cui dice che l'Inter nasce dal caso su tutto sport Guido Vaciago lo stesso Brambati gliel'ho detto anche la settimana scorsa sul discorso di sul discorso di Inzaghi mi viene da ridere perché mi dice dice no ma perché tua moglie Inzaghi no io l'ho criticato Inzaghi è lui che vede magari Conte come un familiare ogni volta su ogni cosa però dico sono rimasti meno di cinque perché ecco il quinto non lo trovo sono loro quattro il quinto chi può essere Sacchi ma Sacchi si è arreso alzato in settimana a bandiera bianca no è vero c'è ordine anche lui Zerischi non andrà all'Inter si forse sono cinque sono cinque in effetti si ordine Brambati Zazzaroni Vaciago e Sabatini sono rimasti in cinque ma non si può come diceva Mourinho nemmeno Gesù era amato da tutti non può Inzaghi Barotta essere apprezzati da tutti ma la verità è sotto gli occhi di tutti la Juve ha cambiato tutto il CdA ed è stata estromessa dall'Europa il Milan ha cambiato quattro proprietà ed è stato concordato l'estromissione dall'Europa l'Inter ha sempre la stessa proprietà nelle ultime quattro proprietà del Milan nei cambiamenti della Juventus e la squadra che come dice lo stesso Zerzeroni ma come loro teorizzano parlando di alcune cose quando devono dire che la loro teoria è giusta la tirano fuori poi una parte della verità e si contraddicono quando parlano dell'altra parte della verità perché se l'Inter fa un ciclo come loro dicono e l'Inter è costruita da anni per vincere come si fa ad essere costruiti da cinque anni per vincere se hai un allenatore che non valorizza dice Sabatini finiamola con questa storia che gli allenatori valorizzano hai un presidente che non c'è non c'è indebitato ce lo ricordano tutti eccetera il presidente che non c'è la dirigenza no la dirigenza non non l'accusano più di tanto però se ne vuole andare se ne vogliono andare e allora l'Inter perché vince un po' un po' il caso un po' il caso questa bellezza nata per caso e un po' gli arbitri ecco gli arbitri col potere politico di Marotta che però se ne vuole andare ecco a sentire questa summa di filosofi anti-interisti l'Inter da cinque anni è la squadra che ottiene i migliori risultati in Italia per questo mix una dose forte di fortuna un po' di arbitri e un po' di potere politico questa è una realtà parallela su cui sono rimasti in quattro e cinque in quattro e cinque non è che si può essere tutti nel mondo reale c'è chi vuole vivere nel mondo delle favole facciamoli divertire così in realtà hanno tutti la faccia di allegri se ci fate caso quando parlano schiumano rabbia la bocca si fanno paonazzi bianchi grigi rossi hanno tutti questa 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 cosa che li unisce presentata la nuova Ferrari è più facile da guidare Ciro Kane golla a San Valentino Sarri e gli assist di Ciavi Alonso Sarri cerca il capolavoro contro Tuchel che arriva dal pesante capo col Bayern servono coraggio e faccia tosta ballottaggio tra Pedro e Isaksen nuovo nodo vecino in 60.000 all'Olimpico poi Angelotti e Guardiola un piede già nei quarti oh sì chi l'ha visto Lukaku dice voglio dare di più canta Tozzi Morandi e Ruggeri si può dare di più Big Roma ha parlato a De Rossi e i compagni della Roma l'attaccante si ribella risponderà sul campo alle critiche si sta allenando duramente per tornare al gol già in Europa con una rete diventa il terzo miglior marcatore della competizione in Europa League appunto sarà quello il anche se la finale in effetti lì l'autogol recupero di Serie A ore 19 Bologna Fiorentina è un Euro Derby Bologna Fiorentina e poi mancheranno solo Inter Atalanta Sassuolo Napoli il 28 e Torino Lazio il 22 i recuperi chiudiamo perché mi segnalavate dopo il Corriere dello Sport con Mamma Mi Scappa Marotta anche Tutto Sport e andiamo a vedere Tutto Sport Tutto Sport sull'Inter la chiave di lettura vediamo un po' Inter i tifosi del Porto bloccano Taremi contestazione per la squadra di Concei Sao la fuga di notizie imbarazza il club nero-azzurro a Cerbi patteggia Inzaghi multato cioè praticamente è una serie di sventure all'Inter e sono troppo simpatici guardate qua questa prima pagina mostruosa simpaticamente mostruosa allora Inter la fuga di notizie imbarazza l'Inter quindi contestazione per la squadra del Porto Taremi che quindi si blocca i tifosi del Porto bloccano Taremi a Cerbi patteggia ripeto a Cerbi anche se viene squalificato salta la Salernitana che avrebbe saltato comunque quindi è normale che quando vieni chiamato si va a riconoscere che il dito medio non si fa i patteggiatori seriali sono quelli che loro conoscono molto bene per quanto riguarda Inzaghi multato punto interrogativo lì se verrà accertato può avere pure la multa per quanto riguarda non si può da squalificati parlare con la squadra però solo sventure comunque per l'Inter e mi raccomando tutti i giorni sempre solo una realtà parallela è quella del giornale torinese che scrive pure ma quando tiri toro nessuno peggio di te l'ultimo attacco per gol l'ultimo per conclusione in porta e non solo Guaio-Rodriguez out almeno tre settimane ma poi prende pure pochi gol però Allegri-Chiesa ora aiutatevi Fede deve ritrovare se stesso l'intesa con Max aiutatevi per favore fatelo per noi noi bianconeri aiutatevi le incomprensioni tattiche e caratteriali sono evidenti gli infortuni il ruolo nella Juve il contratto il mercato futuro troppe cose turbano l'attaccante che ha sbarrito lo spunto ma anche l'atteggiamento giusto chi andrà via secondo me chi andrà via l'ho aggiunto io figurati se allora chi andrà via secondo me alla fine Chiesa 2025 la scadenza stanno preparando il terreno dice perché parlano male di Chiesa perché Chiesa se ne deve andare perché se no deve rinnovare e chiede soldi Vlaovic 2026 guadagnerà 12 deve abbassare ma lui non vuole abbassare quando su Sky chiedevano scusa Allegri non ci volevo credere Alessandro eh sì l'ho messo all'inizio dei nuovi mostri nella prima parte andata degli ottavi l'Asio Bayern Brahim Real City Show Ancelotti soffre all'Ipsia ma passa grazie all'ex milanista Brahim Diaz i campioni di Pep travolgenti a Copenhagen con Super De Bruyne goal e assist 1 a 3 immobile sfida Kane all'Olimpico alle 21 anche Paris Saint Germain contro la Real Sociedade Rejannic in campo dopo 17 giorni Coppa Italia stile NBA apre Milano con Trento basket a Torino bella e bella svelata la Ferrari SF24 Leclerc punta al mondiale sapevo di Hamilton qui fra un anno Sainz d'oro del nuoto abbiamo detto Vittozzi quadrella mondiali mondiali e queste erano le prime pagine italiane se andiamo in Francia c'è Mbappé l'Armanti Real ma la Real Sociedade eccolo qua Paris Saint Germain contro Real Sociedade e poi c'è Jack Devast Devastated by New K.O. Blow eccolo qua l'uscita di Grealish l'avevamo detto dopo pochi minuti ma la vittoria del Manchester City un infortunio nella prima partita iniziata dall'inizio in cinque settimane the England star was devastated as he limped off with the suspected groin dopo 20 minuti l'infortunio comunque 3 a 1 3 a 1 poi andiamo a vedere se dalla Spagna c'è qualcosa eccolo qua un genio Brahim inventa un gol maradoniano al 49esimo e esce però dal campo lesionato all'82esimo un genio ecco perché perciò ha fatto le sostituzioni Angelotti pure lui un genio Brahim Diaz un'altra delle cessioni della famosa ditta Elliot Redbird tra Chessi Cialanoglu Brahim Diaz Tonali quanti ne hanno ceduti di forti non si sa possibilmente a centrocampo loro con i centrocampisti non hanno un buon un buon feeling eccola la sostituzione al minuto 84 Lucas Vasquez per Brahim Diaz è entrato anche José Lu per Rodrigo un genio quindi alla conquista di Parigi la Real Sociedad senza diversi giocatori titolari Real Madrid lo ricordiamo soprattutto tutta la difesa nella squadra di Ancelotti la settima vittoria in sette partite in sette partite di Champions andiamo avanti vediamo se c'è qualcosa sull'Atletico Madrid no per adesso no chiudiamo con sabato scorso c'è stata anche la copertina giustamente oggi che il 14 febbraio lo ricordiamo il Pirata il 14 febbraio di 20 anni fa 2004 moriva a 34 anni il più carismatico e amato campione della bici perché il Pirata ci manca così tanto mitico Pantani mitico Pantani vediamo se c'è anche qualcosa di interessante ancora per quanto riguarda il mercato futuro Danilo che dice no all'Arabia Saudita Tenag che vuole Lautaro Martínez attenzione nuovo tentativo del Torino l'abbiamo detto di Tudor Barcellona e Paris Saint-Germain sulle AOMA il Paris Saint-Germain abbiamo visto anche su Gnabry soprattutto ma non vuole pagare quelle cifre così come il Barça che sono cifre troppo alte ma vediamo un po' secondo quanto riportato da Ficcaies punto net l'attaccante dell'Inter Lautaro una richiesta personale di Eric Tenag che non si sa nemmeno se resterà al Manchester United con il Manchester United che oggi non è nemmeno in Champions il club nero azzurro e anche lo stesso calciatore sono molto ottimisti per quanto riguarda il rinnovo manca ancora l'accordo il piano del Manchester per convincere l'Inter e presentare un'offerta altissima che dovrà essere sopra i 100 milioni 22 gol e 5 assist l'Inter spera di non perderlo il Manchester sogna di acquistarlo una delle due sarà scontenta resta da capire chi ma io sul Manchester United non credo possa essere un pericolo nel senso che poi vabbè se arriva l'Inghilterra potrebbe anche dare il quinto posto per la Champions e quindi poi bisogna vedere Tenag ma Tenag rimane o no non la vedo così scontata ora sta risalendo un po' in classifica con le ultime vittorie ma a 41 la quarta il Tottenham è a 47 quindi a 6 punti dalla quarta la quinta la Stoneville è a 46 quindi a 5 punti a 14 giornate alla fine differenza reti pensate Manchester United 0 con 33 gol fatti e 33 subiti la Stoneville è a più 18 il Tottenham a più 15 l'Arsena a più 31 il Manchester City più 31 il Liverpool più 32 loro 0 quindi ci può stare che possano volere Lautaro se vanno in Champions ma poi Lautaro diciamo si è sempre più visto in un paese latino quindi sta bene a Milano in Italia potrebbe magari essere attratto da un Barcellona da un Real Madrid il Barcellona oggi non può offrire sopra i 100 milioni il Real Madrid sta puntando altri giocatori in Inghilterra bisogna vedere un po' il waltzer delle panchine il Tottenham e l'Arsenal non sono state in grado di convincere Bastoni e Lautaro ma il Manchester United se va in Champions potrebbe avere i motivi economici per farlo è un club che può offrire anche tranquillamente 15 milioni all'anno anche di più però secondo me deve andare almeno in Champions deve andare poi ripeto l'Inghilterra non lo so se è proprio una delle mete preferite una delle mete preferite ma vediamo vediamo come si evolverà la stagione e anche la trattativa e anche la trattativa il nuovo allenatore del Mainz Bo Henriksen Bernardo Silva potrebbe andare al Paris Saint Germain e potrebbero mettergli la clausola una clausola da 60 milioni ah no già ce l'ha la clausola quindi 60 milioni è una cifra alla portata potrebbe potrebbe andare al Paris Saint Germain se ne parlava già nella passata stagione il Manchester United vorrebbe anche Frimpong e Tapsoba del Bayer Leverkusen secondo il Daily Mirror contratto in scadenza 2028 Frimpong quindi un po' il ruolo di Dumfries quindi il Bayer Monaco alla fine l'ha preso a gennaio l'esterno destro il Manchester United potrebbe essere una meta per Dumfries che però se prende Frimpong poi non prende Dumfries vedremo un po' e ancora presto ovviamente per l'estate così come anche il discorso waltzer attaccanti e waltzer allenatori che influenzerà di molto tutti gli altri discorsi sto vedendo intanto se ci sono altre prime pagine interessanti va bene va bene così raffica di messaggi io li chiamerei talebani dice Andrea l'eccezione l'eccezionale Cobian cosa ne pensi delle partite di stasera Lipsia Real e Copenhagen City e l'ho detto un po' all'inizio che Real Madrid è incredibile perché gli mancano Courtois Rudiger lo stesso Militao e Alaba da tempo Bellingham e mette Brian Diaz si fa male Brian Diaz alla fine segna pure Brian Diaz Adatta Chouameni in difesa e Nacio l'ultimo dei madridisti e vince la partita quindi onore al Real Madrid che è una squadra forte e comunque ai quarti di finale se dovesse passare con Lipsia come è probabile recupera sicuro Rudiger e Bellingham quindi secondo me è la testa di serie numero due dopo il City City che non dico che ha passeggiato con il Copenhagen ho visto più il Real Madrid quindi ho visto solo gli highlights ho visto solo gli highlights e devo dire che il Copenhagen come ha detto anche Paolo Condò è la testa di serie numero 16 mentre il City è la testa di serie numero 1 agli ottavi e quindi c'era poca partita 1-3 discorso qua veramente chiuso ecco Cesari che dice sul gol annullato all'Ipsia e come Turam a Roma no l'attaccante dell'Inter non disturba mai lui Patricio Mancini non interferisce sulla possibile parata del portiere non impatta sull'azione Eriks è in fuorigioco influente Turam no perché Sesco era regolare mentre c'è un giocatore che qua sta proprio davanti al portiere del Real Madrid Lunin e quindi è fuorigioco attivo il Lipsia non avrebbe meritato di più Alessandro Venturini sì sì qualcosina in più l'avrebbe meritata però Real Madrid è così ti tira fuori dal cilindro sempre grandi gol Vinicius ha preso pure il palo in un contropiede quindi è andato quasi più vicino il Real Madrid qualche bella parata l'ha fatta Lunin Franco Valeriani che abbraccio dagli Stati Uniti caro Franco ci vedremo magari presto obiettivo Inter grazie per la super chat dice anch'io Lautaro non ce lo vedo in Premier pensi che un bel distacco verso fine marzo potremmo realmente pensare di andare fino in fondo lottando per la quarta intendo in Champions ma dipende anche molto dal sorteggio di marzo se l'Inter elimina l'Atletico intanto eliminiamo l'Atletico poi vediamo come siamo in campionato come dici tu a fine marzo ma soprattutto a marzo che tipo di perché quest'anno come l'anno scorso e gli anni scorsi per l'ultima volta non ci sarà il tabellone tennistico quindi la prima che affronta tra l'altro la Coppa Italia dovrebbe un po' imparare dal tennis e dal tabellone tennistico perché ci hanno messo di fronte il Bologna che è la testa di serie numero 9 che non può andare con la testa di serie numero 1 agli ottavi che anche questa è una mostruosità di cui nei mesi scorsi poi me l'avevate chiesto poi non l'ho più tirata fuori adesso me l'avete fatto venire in mente non ha logica il Bologna dalla parte dell'Inter in Coppa Italia l'anno prossimo il tabellone tennistico prevederà non più i sorteggi perché si andrà le prime otto già gli ottavi da marzo a febbraio i playoff tra la nona e la ventiquattresima dell'unico girone a 36 squadre della nuova Champions quindi playoff due partiti a gennaio settima e ottava giornata otto giornate nel campionato della nuova Super Lega Europea Champions quattro d'andata e quattro di ritorno ma con otto avversarie diverse le prime otto vanno a marzo agli ottavi le seconde otto e le terze otto quindi dalla nona alla ventiquattresima posizione spareggiano andate e ritorno a febbraio i playoff per andare agli ottavi e chi arriva nella regular season nelle otto giornate nelle 36 al primo posto va ecco quello si sorteggerà a destra e a sinistra del tabellone ma poi vai a prendere diciamo un'eventuale ottava ai quarti ecco anche il tabellone se volete l'abbiamo fatto vedere su a obiettivo Inter tante volte interessante anche capire come si andrà a determinare eccolo qua eccolo qua eccolo qua eccolo qua come un tabellone tennistico dove le prime otto sono alla base degli ottavi di finale aspettano le vincenti dei playoff quindi la la quindicesima o sedicesima contro la contro la ecco dalla parte della settima ottava la nona o la decima contro ventitresimo ventiquattresima quindi per dire la nona eventualmente se vince il suo playoff contro ventitresimo ventiquattresima va ad affrontare l'ottava non come il Bologna che era nono e va a affrontare la prima no la prima va a affrontare la una tra la quindicesima e la sedicesima e le altre due qua ma non la la 23 24 21 22 19 20 ah eh sì perché c'è comunque da capire se si va dalla parte destra o dalla parte sinistra la prima o la seconda quindi quello cambierà un po' ma di certo la prima o la seconda vanno a affrontare sedicesimo diciassettesima e quindicesimo sedicesima non la nono o la decima assolutamente no ma gli ottavi potranno esserci derby o no Michele e credo di sì agli ottavi agli ottavi sì perché gli ottavi sono a marzo e tu dici perché adesso non c'erano l'unico sorteggio da effettuare della nuova Champions sarà quello del calendario no poi c'è il sorteggio per capire se la prima va nella parte destra del tabellone o nella parte sinistra cioè può andare a finire o di qua o di qua e quindi quello quello si fa per sorteggio però per questa cosa degli ottavi non mi ricordo più com'era allora nuova Champions sugli ottavi credo che comunque ci saranno già allora la fase a gironi dalla nuova la metà delle partite ciascuna scuola giocherà in casa la classifica più dinamica maggior livello di interesse i club non vengono più sorteggiati in gruppi tutti i club iniziano la competizione insieme in un campionato giocano contro un numero selezionato di avversari pari al numero di giornate tutti i risultati vengono conteggiati in un'unica classifica tre punti per vittoria un punto per il pareggio e zero per la sconfitta ogni squadra gioca 4 più 4 partite in casa e fuori casa gli avversari quali partiti si giocheranno in casa e quali in trasferta saranno assegnate tramite sorteggio basato su un sistema di fascette per garantire a tutti i partecipanti il livello di opposizione più equilibrato quindi l'Inter sarà comunque in prima fascia oggi è sesta nel ranking però non significa niente perché comunque dalla prima fascia affronterai due squadre di prima fascia due di seconda due di terza e due di quarta quattro fasce da nove squadre in base al loro coefficiente individuale stabilito a inizio stagione il famoso ranking poi non varrà più vincere lo scudetto quindi per essere in prima fascia ogni club sarà sorteggiato contro due avversari di ciascuna delle quattro urne quindi due di prima due di seconda due di terza e due di quarta fascia i club della stessa federazione non verranno sorteggiati l'uno contro l'altro nella fase di campionato quindi nelle otto giornate eccezionalmente per le federazioni con quattro o più squadre in fase di campionato può essere consentita al massimo una partita per squadra contro un'altra della stessa federazione se questo è l'unico modo per evitare una situazione di stallo nel sorteggio in sostanza quindi saranno possibili i discontri tra squadre e la stessa nazione già nella prima fase quindi già nella prima fase se ci sono non so cinque spagnole cinque inglesi che secondo me restano le favorite per avere la quinta squadra ma anche Italia e Germania oggi sono prime e seconde hanno le speranze ci può essere addirittura qualche derby nella prima fase poi la fase eliminazione diretta al termine della fase a Gironi in ciascuna delle competizioni a squadre le squadre classificate dalla prima all'ottava posizione si qualificheranno direttamente agli ottavi quelle dal nono al sedicesimo affronteranno quelle dal diciassettesimo al ventiquattresimo i club posizionati dal venticinquesimo in giù al trentaseiesimo saranno eliminati da tutte le coppe quindi non scalano più in Europa League non ci saranno più le retrocessioni quindi da una coppa a un'altra anche nell'eliminazione diretta per rafforzare la sinergia tra la fase del campionato e quella eliminazione diretta e per fornire maggiori incentivi sportivi alla fase a Gironi Unico gli accoppiamenti della fase eliminazione diretta saranno in parte determinati dalla classifica del campionato delle otto giornate ci sarà questo criterio di teste di serie per gli spareggi della fase eliminazione diretta le squadre che finiranno dal nono al sedicesimo posto saranno teste di serie e quelle che finiranno dal diciassettesimo al ventiquattresimo non saranno teste di serie le squadre teste di serie giocheranno in linea di principio la gara di ritorno in casa per gli ottavi di finale le squadre dal primo all'ottavo posto nella fase di campionato saranno teste di serie e giocheranno contro le vincitrice degli spareggi degli ottavi di finale che non saranno teste di serie le squadre teste di serie giocheranno in linea di principio la gara di ritorno in casa verrà formato un tabellone che guiderà gli accoppiamenti della fase eliminazione diretta dai playoff fino alle semifinali le squadre classificati da 1 all'ottavo posto verranno accoppiate in base alla loro posizione nella fase di campionato e divise tra le due parti opposte del tabellone mediante sorteggio quindi se uno arriva primo nel girone a 36 la finale la squadra che arriva seconda la può affrontare solo in finale vanno come nel tennis nella parte opposta come se fossero teste di serie numero 1 e numero 2 questo significa per esempio che saranno sorteggiati gli scontri per i playoff con le 9 squadre teste di serie da un lato e le 9 non teste di serie da un altro le 9 perché le 9 le 8 le altre 8 squadre le prime classificate che conquisteranno direttamente gli ottavi saranno invece spalmate sul resto del tabellone in un modo che per esempio la prima e la seconda si possono incontrare solo in finale appunto tutti conosceranno il loro percorso si è chiuso tutti conosceranno il loro percorso ero arrivato qua si era chiuso scusate tutti conosceranno il loro percorso verso l'ultimo atto della manifestazione già a partire dai playoff che seguiranno la fase campionato ricordiamo che per tutta la fase eliminazione diretta sarà eliminato il divieto di scontri tra formazioni appartenenti alla medesima federazione ricordiamo che per tutta la fase eliminazione diretta sarà eliminato il divieto di scontri tra il divieto di scontri quindi per tutta la fase eliminazione diretta quindi ci possono essere scontri tra squadre della stessa nazione che abbiamo detto addirittura ci potrà essere eccezionalmente anche nel raggruppamento iniziale ma c'è il divieto per tutta la fase eliminazione diretta e sì perché se tu devi affrontare che ne so la la nona affronta la ventiquattresima nei playoff e la ventiquattresima italiana contro italiana italiana contro italiana quindi prima fase otto giornate spareggi due giornate in case fuori ottavi in case fuori quarti in case fuori semifinali in case fuori finale secca quindi se uno fa tutte le partite fa 8 più gli ottavi 10 più i quarti 12 più le semifinali 14 la finale 15 se arrivi dal nono al ventiquattresimo posto devi fare lo spareggio 17 partite poi le otto giornate della fase di campionato si giocheranno nell'arco di 10 settimane di partite europee tra settembre e gennaio la champions avrà le settimane di esclusiva con il programma spalmato martedì mercoledì giovedì le altre competizioni non saranno programmate nella stessa settimana quindi ci sono anche due giovedì confermate le fasce 18 e 45 e 21 uno slot aggiuntivo alle 16 e 30 per le gare di europa league e conference league disputate in zona con zone confuso orario rilevante e poi l'ultima giornata della prima fase tutte le partite giocheranno contemporaneamente mentre nella fase eliminazione diretta sarà possibile vedere partite negli ottavi disputarsi alle 18 e 45 solo dai quarti in poi si disputeranno sempre alle 21 così come a partire dalle semifinali di europa e conference league quindi insomma ci dobbiamo un po abituare a questi cambiamenti chi vince l'europa league da questa stagione in poi si qualificherà comunque alla champions e sì sì chi vince l'europa league si qualifica alla champions sembra più meritocratica questa formula senza più la casualità del sorteggio e da una parte sì dall'altra c'è il fascino della botta di fortuna del sorteggio che e poi non è detto che chi arriva secondo terzo quarto nelle otto partite del girone significa che la quarta più forte la terza più forte però insomma un po di meritocrazia in più c'è come si finisce alle prime otto non ho capito ci sono dei gironi che stabiliscono questa cosa e successivamente ulteriori gironi per far giocare rimanenti e poi quanti gruppi ci saranno non ci saranno più i gruppi ci saranno 36 squadre e si fanno otto partite 4 di andate 4 in casa e 4 fuori casa ma con otto squadre diverse per capire le otto partite che devi fare perché giochi contro agli altri 35 in campionato se ho 36 squadre perché giochi solo con otto squadre come fai avere otto squadre non tutte le otto facili perché dividono le 36 squadre in fasce 9 9 9 9 e l'inter che in prima fascia affronterà comunque due squadre di prima fascia due squadre di seconda fascia due squadre di terza fascia due squadre di quarta fascia quattro in casa e quattro fuori casa dopo le otto giornate arrivi o primo o nono o sedicesimo o trentaseiesimo se arrivi nelle prime otto sei agli ottavi se arrivi fino al ventiquattresimo posto sei ai playoff se arrivi fuori dal ventiquattresimo sei eliminato non ci sono i gruppi sono otto partite una classifica di 36 squadre puoi essere dopo tre giornate sei trentaquattresimo sei venticinquesimo sei diciottesimo è una specie di campionato campionato d'europa è il campionato con otto giornate che finisce a gennaio e ti devi qualificare o agli ottavi o ai playoff per andare agli ottavi questo è un sacco di partiti sono più partite alla fine del girone due partite in più non è che sono mille in più ragazzi vi saluto abbiamo fatto veramente un una puntata infinita domani invece ripeto siccome sono in tv poi la sera e anche sul canale twitch dfc inter 1908 alle due e mezza la puntata di interagire domani sarà di 90 minuti credo dalle 5 alle 6 e mezza ce la dovrei fare 5 e un quarto 6 e mezza 6 e 7 meno 20 quindi a metà pomeriggio domani anche apriamo i telefoni direttamente grazie a tutti gli aggiornamenti nella prima nelle nei primi tre quarti d'ora poi ve lo scrivo nei commenti dal quarantaseiesimo minuto in poi ci sono i tanti nuovi mostri che non si arrenderanno mai ma ci fanno anche divertire settimana dopo settimana buonanotte manuel ciao buonanotte a tutti ciao 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 sempre forse inter ciao e iscrivetevi al canale e fatelo conoscere i vostri amici interisti mi raccomando ciao alessandro venturini ciao 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 e grazie ancora a franco valeriani per aver utilizzato la super chat buonanotte buonanotte buon san valentino ciao io che amo solo te forzare azzurri alle oggi microfono dai speriamo speriamo che non ci tormenti più il microfono buonanotte forza inter la capolista se ne va la capolista se ne va la capolista se ne va e se ne va la capolista se ne va buonanotte ancora ciao 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 ciao